Ora, mentre ciò facevo, prosegue Luisa, un pensiero mi ha detto, come va e in che modo nostro Signore ha messo in ogni cosa creata fiumi d'amore verso la creatura? Ed una luce ha risposto al mio pensiero, certo, figlia mia, che in ogni cosa creata il mio amore si riversava a torrenti verso la creatura. Te lo disse altrove e te lo confermo ora, che mentre il mio amore increato creava il sole, li metteva oceani d'amore, ed in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio, il passo, la mano e tutto, il mio amore correva alla creatura, e quasi percuotendole dolcemente l'occhio, la mano, il passo, la bocca, le davo il mio bacio eterno e le porgevo il mio amore. Insieme alla luce corre il calore e, percuotendola un po' più forte e quasi impaziente dell'amore della creatura fino ad ardeggiarla, le ripeto più forte il mio ti amo eterno. E se il sole con la sua luce calore feconda le piante, è il mio amore che corre a nutrire l'uomo, e se ho disteso il cielo sul capo dell'uomo, tempestandolo di stelle, è stato il mio amore, che volendo allietare l'occhio dell'uomo anche di notte, gli dice in ogni scintillio di stella il mio ti amo. Sì che ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo, e se ciò non fosse, la creazione non avrebbe nessuno scopo. Ma io non faccio nulla senza scopo, tutto è stato fatto per l'uomo, ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore. Perciò, figlia mia, se vuoi lenire il mio dolore, vieni spesso nel mio volere e a nome di tutti dammi adorazione, amore, riconoscenza e ringraziamento per tutto. Preghiamo allora con Luisa, mio Gesù, voglio amarti, e voglio tanto amore da supplire l'amore di tutte le generazioni che sono state e che ci saranno. Ma chi può darmi tanto amore da poterti amare per tutti? Amor mio, nel tuo volere c'è la forza creatrice, quindi nel tuo volere voglio io stessa creare tanto amore da supplire e sorpassare l'amore di tutti e per tutto ciò che tutte le creature sono obbligate a dare a Dio come nostro creatore. Volume 12, 2 febbraio 1921. E ancora, amor mio, nel tuo volere trovo tutte le generazioni, e Dio, a nome di tutta l'umana famiglia, ti adoro, ti bacio, ti riparo per tutti, le tue piaghe, il tuo sangue lo do a tutti, affinché tutti trovino la loro salvezza. E se le anime perdute non possono più fruire del tuo santissimo sangue né amarti, lo prendo io per loro, per far io ciò che dovrebbero far loro. Il tuo amore non voglio che resti defraudato in nulla da parte delle creature, per tutti voglio supplire, ripararti, amarti, dal primo fino all'ultimo uomo. Volume 12, 6 dicembre 1919. Il 29 dicembre 1923, volume 16. Gesù dice a Luisa, tutti gli atti che abbiamo fatto insieme nella mia volontà sono atti eterni, come è eterna la mia volontà, sì che tu hai del tuo in me e Dio del mio in te, scorre in te una vena eterna che ci rende inseparabili e quanto più continui e moltiplichi i tuoi atti nel mio volere, tanto più prendi parte a ciò che è eterno io. Continuo a scrivere Luisa, vedevo tra me e Gesù che il mio interno era accentrato in lui, ed il suo accentrato in me. Dopo ho fatto la santa comunione, ed io secondo il mio solito stavo chiamando e mettendo tutte le cose create intorno a Gesù, a ciò che tutti gli facessero corona e gli dessero il contraccambio dell'amore, degli omaggi al loro creatore. Tutte sono corse alla mia chiamata, e vedevo a chiare note tutto l'amore del mio Gesù per me in tutte le cose create, e Gesù aspettava con tale tenerezza d'amore nel mio cuore il contraccambio di tanto amore, ed io, sorvolando su tutto e abbracciando tutto, mi portavo ai piedi di Gesù e gli dicevo, amor mio, mio Gesù, tutto hai creato per me e me lo hai donato, sicché tutto è mio, ed io lo dono a te per amarti, perciò ti dico in ogni stilla di luce e di sole, ti amo, nello scintillio delle stelle, ti amo, in ogni goccia d'acqua, ti amo. Il tuo volere mi fa vedere fin nel fondo dell'oceano il tuo ti amo per me, ed io imprimo il mio ti amo per te in ogni pesce che guizza nel mare, voglio imprimere il mio ti amo sul volo d'ogni uccello, ti amo dovunque amor mio. Voglio imprimere il mio ti amo sulle ali del vento, nel muoversi delle foglie, in ogni favilla di fuoco, ti amo per me e per tutti. Tutta la creazione era con me a dire, ti amo, ma quando ho voluto abbracciare tutte le umane generazioni nel volere eterno, per far prostrare tutti innanzi a Gesù, perché tutti facessero il loro dovere di dire in ogni loro atto, parola, pensiero, ti amo, a Gesù. Queste mi sfuggivano, ed io mi sperdevo e non sapevo fare, onde l'ho detto a Gesù, e lui, figlia mia, eppure è proprio questo il vivere nel mio volere, il portarmi tutta la creazione innanzi a me, e a nome di tutti darmi il contraccambio dei loro doveri. Nessuno deve sfuggirti, altrimenti la mia volontà troverebbe dei vuoti nella creazione e non resterebbe appagata. Ma sai perché non trovi tutti e molti ti sfuggono? E la forza del libero arbitrio, ma ti voglio insegnare il segreto dove tutti trovarli, entra nella mia umanità e vi troverai tutti gli atti loro come in custodia, per cui ho preso l'impegno di soddisfare per loro innanzi al mio celeste Padre, e tu va seguendo tutti gli atti miei, che erano gli atti di tutti. Così troverai tutto e mi darai il ricambio d'amore per tutti e per tutto. Tutto c'è in me, avendo fatto io per tutti c'è in me il deposito di tutto e rendo al Divin Padre il dovere dell'amore di tutto, e chi vuole se ne serve per via di mezzo per salire al cielo. Io sono entrata in Gesù, continua Luisa, e con facilità ho trovato tutto e tutti. 25 Agosto 1921, Volume 13 Quante volte in più ti immergi nel mio volere, tanto più si allarga il circolo della tua volontà nella mia. Io sto con ansia aspettando queste tue fusioni nella mia volontà. Tu devi sapere che, come io pensavo nella mia volontà, così venivo informando i tuoi pensieri nella mia volontà, preparando nel posto, come operavo, informavo le tue opere nel mio volere, e così di tutto il resto. Ora, ciò che facevo, non lo facevo per me, che non avevo bisogno, ma per te, perciò ti aspetto nella mia volontà, che venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità, e sopra le mie informazioni vieni a fare le tue. Allora sono contento e ne ricevo completa gloria, quando ti veggo fare ciò che feci io 16 settembre 1921, Volume 13 Il 16 maggio 1919, Volume 12 Gesù dà a Luisa questo chiarimento, questi atti nel mio volere, adonta che corrono a bene di tutti, agiscono a seconda delle disposizioni di ciascuno e a seconda dell'atteggiamento dell'anima che vive nel mio volere. Sicché un atto in più fatto nel mio volere è un sole di più che splende su tutte le creature. Onde dopo, continua Luisa, ho cercato di fondermi nel mio Gesù e nel suo volere, moltiplicando i miei pensieri nei suoi, per riparare e sostituire per tutte le intelligenze create, passate, presenti e future, e dicevo di cuore al mio Gesù, quanto vorrei ridarti con la mia mente tutta la gloria, l'onore, la riparazione, la riparazione per tutta l'umana famiglia, anche per le stesse anime perdute che con la loro intelligenza non te lo hanno dato. E lui, come compiacendosi, mi ha baciato in fronte, dicendomi, e io col mio bacio suggello tutti i tuoi pensieri coi miei, affinché sempre trovi in te tutte le menti create e a nome loro riceva continua gloria, onore e riparazione. Nel volere di Gesù, scrive Luisa il 7 aprile 1919, volume 12 Vedevo tutti i suoi pensieri, tutto il bene che ci aveva fatto con la sua intelligenza, e come dalla sua mente ricevevano vita tutte le intelligenze umane. Ma, o Dio, che abuso ne facevano, quante offese! Ed io dicevo, Gesù, moltiplico i miei pensieri nel tuo volere, per dare ad ogni tuo pensiero il bacio di un pensiero divino, un'adorazione, una riconoscenza di te, una riparazione, un amore di pensiero divino, come se un altro Gesù lo facesse, e questo a nome di tutti e per tutti i pensieri umani, passati, presenti e futuri, e intendo supplire le stesse intelligenze delle anime perdute. Voglio che la gloria da parte di tutte le creature sia completa e che nessuna manchi all'appello, e ciò che non fanno loro lo faccio io nel tuo volere, per darti gloria divina e completa. Poi Gesù, guardandomi, aspettava, come se volesse una riparazione ai suoi occhi, e io ho detto, Gesù, mi moltiplico nei tuoi sguardi per quante volte hai guardato la creatura con amore, Mi moltiplico nelle tue lacrime, per piangere anch'io per tutte le colpe delle creature, per poterti dare a nome di tutti sguardi d'amore divino e lacrime divine, per darti gloria e riparazione completa per tutti gli sguardi di tutte le creature. Poi Gesù ha voluto che a tutto, alla bocca, al cuore, ai desideri, eccetera, seguissi a dare la riparazione, moltiplicando tutto nel suo volere. Poi Gesù ha soggiunto Figlia mia, come tu facevi gli atti nel mio volere, tra il cielo e la terra si formavano tanti soli, altrimenti, tanto sarebbe il ribrezzo che mi farebbe la terra che non potrei guardarla. Ma essa poco riceve da questi soli, perché le tenebre sono tante, che mettendosi di fronte a questi soli, non ricevono né tutta la luce, né il calore. Il 3 settembre 1919, volume 12 Gesù precisa a Luisa, sappi che il solo fonderti in me tutti i giorni e parecchie volte al giorno serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni, perché solo chi entra in me e prende il principio da me di tutto ciò che fa, può equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto. Può equilibrare da parte delle creature la gloria del Padre, perché stando in me un principio eterno, una volontà eterna, potrei equilibrare tutto, soddisfazione, riparazione e gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti. Sì che, come tu entri in me, vieni a rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della Maestà Eterna. Sostituendoti a nome di tutta l'umana famiglia, cerca, per quanto è da te, di ripararmi per tutto. Se sapessi quanto bene ne riceve il mondo quando un'anima, senza l'ombra dell'interesse personale ma solo per mio amore, si eleva tra il cielo e la terra, ed unita con me equilibra le riparazioni di tutti. Perciò Gesù ci invita a rimetterci in quell'ordine in cui il suo amore divino ci aveva messi nel crearci, volume 13, 15 dicembre 1921. Riordinati in me, e sai come puoi riordinarti? Colfonderti interamente nel mio volere. Anche il respiro, il palpito, l'aria che respiri, non devono essere altro che fusione nel mio volere. Così entra l'ordine tra creatore e creatura, e ritorna al principio d'onde uscì. Tutte le cose stanno nell'ordine, hanno il posto d'onore, sono perfette, quando non si spostano dal principio d'onde sono uscite, spostate dal principio, tutto è disordine, disonore, imperfezione. Gli atti fatti nel mio volere si restituiscono al principio dove l'anima fu creata e prendono vita nell'ambito dell'eternità, portando al loro creatore gli omaggi divini e la gloria del loro stesso volere. Tutti gli altri restano nel basso, aspettando l'ultima ora della vita per subire ciascuno il suo giudizio e la che merita, perché non c'è atto fatto fuori della mia volontà, anche buono, che possa dirsi puro, il solo non avere la mira alla mia volontà è gettare fango nelle opere più belle, e poi, il solo spostarsi dal suo principio merita un appunto. La creazione fu messa fuori sulle ali del mio volere, e sulle stesse ali vorrei che mi ritornasse, ma in vano l'aspetto. Ecco perché tutto è disordine e scompiglio. Perciò, viene nel mio volere, per darmi a nome di tutti la riparazione di tanto disordine. 6 aprile 1922, volume 14 Quanto sono belle le preghiere e gli atti fatti nel mio volere. Come la creatura si trasforma nello stesso Dio creatore e ridà il ricambio di ciò che Lui le ha dato. Tutto creai per l'uomo e tutto a Lui donai. Nella mia volontà la creatura si innalza al suo Dio creatore e lo trova nell'atto in cui creò tutte le cose per fargliene dono, e lei, tremante alla molteplicità di tanti doni, e non avendo in sé la forza creatrice per poter creare tante cose per quante ne ha ricevute, offre le sue stesse cose, le cose di Dio creatore. Per ricambiarlo in amore. Sole, stelle, fiori, acqua, fuoco, aria, ti ho dato per darti amore, e tu riconoscente li hai accettati e, mettendo a traffico il mio amore, me ne hai dato il ricambio, sicché, sole ti diedi e sole mi hai dato, stelle, fiori, acqua ti diedi, e tu me li hai ridonati. Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create e, ad un'anime voce, mi hanno dato l'amore che feci correre su tutta la creazione. Nella mia volontà l'anime si mette a livello del suo creatore, e nel suo stesso volere riceve e dona. Oh, che gara tra creatura e creatore! Se tutti potessero vedere, ne resterebbero stupiti nel vedere che nella mia volontà l'anima diventa un piccolo Dio, ma tutto. In virtù della potenza della mia volontà. E l'anima, riconoscente, risponde al suo creatore. Amor mio, nel tuo volere ciò che è tuo è mio, tutte le cose create sono mie, il sole è mio ed io te lo do in ricambio, affinché tutta la luce ed il calore del sole, in ogni stilla di luce e di calore ti dica che io ti amo, ti adoro, ti benedico, ti prego, per tutti. Le stelle sono mie, ed in ogni tremolio di stelle. Suggello il mio ti amo immenso ed infinito, per tutti. Le piante, i fiori, l'acqua, il fuoco, l'aria, sono miei ed io te li do in ricambio, ma tutti che ti dicano, e a nome di tutti, ti amo con quell'amore eterno con cui ci creasti. E Luisa, l'8 novembre 1921 scrive, volume 13, ogni qual volta la mia volontà ripeteva gli atti, tanti Gesù si moltiplicavano. Allora il mio Gesù mi ha detto, vedi che significa vivere nel mio volere? È un moltiplicare la mia vita quante volte si vuole ripetere tutto il bene che la mia vita contiene. Dopo ciò, continuo a scrivere Luisa, stavo dicendo al mio Gesù, vita mia, entro nel tuo volere per potermi distendere in tutti ed in tutto, dal primo all'ultimo pensiero, dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima azione e passo che si sono fatti e si faranno. Voglio suggellare tutto col tuo volere, affinché riceviate da tutto la gloria della vostra santità, del vostro amore, della vostra potenza, e tutto ciò che è umano resti coperto, nascosto, improntato dal vostro volere, a ciò nulla, nulla resti d'umano in cui voi non riceviate gloria divina. Ora, mentre ciò ed altro facevo, il mio dolce Gesù è venuto tutto festante, accompagnato da innumerevoli beati, e ha detto, tutta la creazione mi dice, gloria mia, gloria mia. E tutti i santi hanno risposto, ecco, o Signore, che vi diamo di tutto gloria divina. Si sentiva un eco da tutte le parti, che diceva, di tutto vi diamo amore e gloria divina. E il 22 maggio 1919, volume 12 Gesù spiega a Luisa come la gloria di Dio sarà completata per mezzo di chi vivrà nel volere divino. Figlia mia, tutte le mie opere sono complete, sicché la gloria che mi deve dare la creatura sarà completa e non verrà all'ultimo giorno, se tutta la creazione non mi dà l'onore e la gloria da me stesso voluta e decisa. Ciò che non mi danno gli uni, lo prendo dagli altri, e in questi raddoppio la grazia che altri mi respingono e da questi ricevo doppio onore e gloria. Ad altri, a seconda delle loro disposizioni, giungo a dare la grazia che darei a dieci, ad altri quella che darei a cento, ad altri quella che darei a mille, e alle volte do le grazie che darei a città, a province ed anche a regni interi, e questi mi amano e mi danno gloria per dieci, per cento, per mille, ecc. Così viene completata la mia gloria da parte della creazione. E quando vedo che la creatura non può giungere, malgrado la sua buona volontà, la tiro nel mio volere, dove trova virtù di moltiplicare un solo atto per quanti ne vuole, e mi dà gloria, onore, amore, che altri non mi danno. Perciò sto preparando l'era del vivere nel mio volere, e ciò che non hanno fatto le generazioni passate e che non faranno, in quest'era della mia volontà i buoni completeranno l'amore, la gloria, l'onore di tutta la creazione, dando loro grazie sorprendenti ed inaudite. Ecco perché chiamo te nel mio volere e ti sussurro all'orecchio, Gesù, depongo ai tuoi piedi l'adorazione, la sudditanza di tutta l'umana famiglia. Depongo sul tuo cuore il bacio di tutti, sulle tue labbra vi imprimo il mio bacio per suggellare il bacio di tutte le generazioni. Ti stringo con le mie braccia, per stringerti con le braccia di tutti e per portarti la gloria di tutti e le opere di tutte le creature. Volume 11, 29 ottobre 1914. Basta un solo atto della mia volontà per creare mille mondi, tutti perfetti e completi. Non ho bisogno di atti susseguenti, uno mi basta per tutti. Onde tu, facendo l'atto più semplice e unito con la mia volontà, mi darai un atto completo, cioè di amore, di lode, di ringraziamento, di riparazione, tutto, insomma, mi racchiuderai in quest'atto, anzi racchiuderai me stesso e darai me a me. Scrive ancora Luisa il 29 gennaio 1919, volume 12, ho recitato il credo, intendendo entrare nell'immensità del volere divino, dove stanno tutti gli atti delle creature passate, presenti e future, e quegli stessi che la creatura dovrebbe fare e che per trascuratezza o malvagità non ha fatto. E dicevo, mio Gesù, amor mio, entro nel tuo volere e intendo con questo credo rifare, riparare tutti gli atti di fede che non hanno fatto le creature, tutte le mescridenze e dare l'adorazione dovuta a Dio come creatore. Ora pareva che Gesù mi diceva, figlia diletta mia, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. Nel corso di ogni duemila anni ho rinnovato il mondo, nei primi duemila lo rinnovai col diluvio, nei secondi duemila lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità, dalla quale, come da tante fessure, traluceva la mia divinità, e i buoni e gli stessi santi dei seguenti duemila anni sono vissuti dei frutti della mia umanità e come leccando hanno goduto della mia divinità. Ora siamo circa alla fine del terzo duemila, e ci sarà una terza rinnovazione, ecco pertanto lo scompiglio generale, non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la mia divinità, Ora, in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata e distrutta in gran parte la generazione presente, sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità, Come agiva il mio volere divino col mio volere umano, come tutto restava concatenato in me e come tutto lo facevo e rifacevo, e anche ogni pensiero di ciascuna creatura era rifatto da me e suggellato col mio volere divino. Il mio amore vuole sfogo e vuole far conoscere gli eccessi che la mia divinità operava nella mia umanità in favore delle creature, eccessi che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente la mia umanità. Ecco pure perché ti parlo spesso del vivere nel mio volere, che finora non ho manifestato a nessuno. Al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia e la dolcezza che contiene il farla, ma penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, anche stando in terra, e in cielo e nei cuori, deporre i modi umani ed agire coi modi divini, questo non è conosciuto ancora, tanto che a non pochi sembrerà strano, e chi non tiene aperta la mente alla luce della verità non ne comprenderà nulla. Ma io a poco a poco mi farò strada, manifestando ora una verità, ora un'altra di questo vivere nel mio volere, che finiranno col comprenderlo. Ora, il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità. La mia umanità con la mia divinità nuotava nel volere eterno e andavano rintracciando tutti gli atti delle creature per farli proprie dare al Padre, da parte delle creature, una gloria divina, e portare, a tutti gli atti delle creature, il valore, l'amore, il bacio del volere eterno. In questo ambiente del volere eterno io vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti, e gli stessi atti buoni e malamente fatti, ed io facevo i non fatti e rifacevo i malamente fatti. Ora, questi atti non fatti e fatti solo da me stanno tutti sospesi nel mio volere. E aspetto le creature che vengano a vivere nel mio volere, e che ripetano nella mia volontà ciò che feci io. Ed io, scrive Luisa, interrompendo il dire di Gesù ho detto, amor mio, se tanto bene c'è di questo vivere nel volere divino, perché non lo hai manifestato prima? E lui, figlia mia, prima dovevo far conoscere ciò che fece e soffrì la mia umanità di fuori, per poter disporre le anime a conoscere ciò che fece la mia divinità di dentro. La creatura è incapace di comprendere tutto insieme il mio operato, perciò vado manifestandomi poco a poco. Poi, avrò uno stuolo di anime che vivendo nel mio volere rifaranno tutti gli atti delle creature, e avrò la gloria di tanti atti sospesi, fatti solo da me, anche da parti delle creature, e queste di tutte le classi, vergini, sacerdoti, secolari, a seconda del loro ufficio. Non più opereranno umanamente, ma penetrando nel mio volere, i loro atti si moltiplicheranno per tutti in modo tutto divino, e da parte delle creature avrò la gloria divina di tanti sacramenti amministrati e ricevuti in modo umano, di altri profanati, di altri infangati dall'interesse e di tante opere buone in cui resto più disonorato che onorato. Lo sospiro tanto questo tempo, e tu prega e sospiralo insieme con me. Volume 13, 4 febbraio 1922 Figlia mia, le anime che vivono nella mia volontà sono le piccole rotelle che girano nella gran ruota dell'eternità. La mia volontà è il moto e la vita della ruota dell'eternità interminabile. Come se entrano nel mio volere per pregare, per amare, per operare, eccetera, la ruota dell'eternità le fa girare nella sua circonferenza interminabile, ed esse, siccome in quella ruota trovano tutto ciò che si è fatto e si deve fare e tutto ciò che dovrebbe farsi e non si fa, come girano, così gettano luce e ondate divine in ciò che si è fatto e si deve fare, dando a nome di tutti l'onore divino al loro creatore, e rifaranno ciò che dalle creature non è stato fatto. Oh, com'è bello vedere entrare un'anima nel mio volere! Come entra, la gran ruota dell'eternità le dà la corda per farla girare nella sua gran mole, e la piccola rotella fa dei giri eterni. La corda della gran ruota la mette in comunicazione con tutte le corde divine, e mentre gira fa ciò che fa il suo creatore. Perciò esse sono come le prime da me create e come le ultime, perché nel girare si trovano al principio, nel mezzo e alla fine, onde saranno la corona di tutta l'umana famiglia, la gloria, l'onore di di il supplemento di tutti, e il ritorno a Dio di tutto l'ordine delle cose da Lui create. Perciò i tuoi giri siano continui nel mio volere. Come l'anima entra nella mia volontà, gira per quante intelligenze pensano, quanti sguardi danno le creature, quante parole dicono, quante opere e quanti passi fanno, queste anime girano ad ogni atto divino, ad ogni moto, ad ogni grazia che dal cielo scende, insomma, in ciò che si fa in cielo e in terra, loro formano il giro. I giri di queste rotelle sono veloci, ma io li numero tutti, prima, per prendermi la gloria, l'amore eterno che mi danno, e poi per fondere tutto il bene eterno, per dar loro la capacità di farli sorpassare tutto, per poter abbracciare tutti e farsi corona di tutto. Volume 13, 20 gennaio 1922 Io, quando voglio chiamare un'anima nel mio volere, per fare che vi stabilisca il suo soggiorno, giro tutto il mondo e forse tutte le generazioni, e dove trovo la più piccola, la più povera, la prendo e la metto nell'ambito eterno del mio volere, e le dico, lavora insieme con me nella mia volontà, ciò che è mio è tuo, Deponi se hai qualche cosa di proprio, perché nella santità ed immense ricchezze della mia volontà, non è altro che misericenzi. Che sono i tuoi meriti a confronto dei miei? Nel mio volere li troverai tutti, e io te ne faccio padrona. Voglio che lasci tutto da parte, la tua missione è grandissima. Voglio che tu ti stia in continuo atto nel mio volere, voglio il passeggio dei tuoi pensieri nel mio volere, che passeggiando su tutte le umane intelligenze stendano il manto del mio volere su tutte le menti create, ed elevandosi fino al trono dell'Eterno offrano tutti i pensieri umani improntati dell'onore, della gloria della mia volontà divina. Poi stendi il manto del mio volere su tutti gli sguardi umani, su tutte le parole, mettendo come in passeggio i tuoi occhi e le tue parole su tutte le loro, e suggellandole col mio volere ti elevi di nuovo innanzi alla Maestà Suprema e offra l'omaggio, come se tutti avessero fatto uso della vista e della parola secondo il mio volere. E così, se operi, se respiri, se il tuo cuore palpita, il tuo passeggio sia continuo. La tua via è lunghissima, è tutta l'eternità che devi percorrere. Se sapessi quanto perdi con una tua fermata, e che privi me, non di un onore umano, ma di un onore divino. Perciò, attenzione a fare le corse nel mio volere. Alla scuola di Gesù, anche noi insieme a Luisa diciamo, Padre Santo, vengo al tuo trono per portarti nel mio grembo tutti i tuoi figli, le tue immagini date e create, per rimetterli nel tuo grembo divino, affinché quella volontà da essi spezzata tra te e loro, tu la vincoli e la rannodi di nuovo. Sono piccola, è vero, ma prendo l'impegno di soddisfarti per tutti, non mi partirò dal tuo trono se non mi vincoli la volontà umana con la divina, e portandola in terra venda il regno del tuo volere sulla terra. Ai piccoli nulla si nega, perché ciò che chiedono non è altro che l'eco del tuo stesso volere e di ciò che vuoi tu. Per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, proclama Gesù il 6 dicembre 1923, volume 16. È necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati da atti di volontà divina, affinché il Supremo volere vedendo che tutti gli atti di volontà delle creature sono cosparsi dalla sua, attirato dalla calamita potente del suo stesso volere scenda in terra e vi regni. Gesù il 6 novembre 1922, volume 14. Amo tanto che il vivere nel mio volere sia conosciuto, per far ripetere nelle anime le opere mie, ed allora non sarò più solo, ma avrò la creatura in mia compagnia, l'avrò con me, intimamente con me, nel fondo del mio volere, quasi inseparabile da me, come se allora allora fosse uscita dal mio seno, come quando la creai, senza aver fatto altre vie contrarie alla mia volontà. Quanto sarò contento! La creazione in nulla si è spostata dalla mia volontà, il cielo è sempre azzurro e stellato, il sole è pieno di luce e calore, tutta la creazione è in perfetta armonia, una cosa è sostegno dell'altra, è sempre bella, fresca, giovane, non mati in vecchia ne perde un'ombra della sua beltà, anzi pare che ogni giorno sorga più maestosa, dando un dolce incanto a tutte le creature. Tale sarebbe stato l'uomo, se non si fosse sottratto dal mio volere e tali sono le anime che vivono nel mio volere, sono i nuovi cieli, i nuovi soli, la nuova terra, tutta fiorita, anzi più multiformi di bellezza e d'incanto volume 13, primo maggio 1921. Figlia mia, nella mia volontà c'è il vuoto dell'operato umano nel divino, e questo vuoto deve essere riempito da chi vive nel mio volere, quanto più starai attenta a vivere nel mio volere, e nel farlo conoscere agli altri, tanto più subito sarà riempito questo vuoto, in modo che il mio volere, in modo che il mio volere, vedendosi alleggiare nel suo il volere umano, come ritornando al principio d'onde ne uscì, si sentirà soddisfatto e vedrà compiute le sue brame sulla generazione umana, fossero pochi ed anche uno solo, perché il mio volere con la sua potenza può rifarsi di tutto, anche d'uno solo quando non trova altri, ma è sempre una volontà umana che deve venire nella mia a riempire tutto ciò che gli altri non fanno, questo mi sarà tanto accetto, da squarciare i cieli per far scendere il mio volere e far conoscere il bene di prodigi che contiene. Diciamo allora al dolce Gesù Prego nel tuo volere affinché la mia parola, moltiplicandosi in esso, abbia per ogni parola di ciascuna creatura una parola di preghiera, di lode, di benedizione, d'amore, di riparazione, vorrei che la mia voce, innalzandosi tra il cielo e la terra, assorbisse in sé tutte le voci umane per ridonarle a te in omaggio e gloria, secondo che vorresti che la creatura se ne servisse della parola volume 15, 2 aprile 1923. Gesù, 9 aprile 1923, volume 15. Figlia diletta mia, amo tanto questi atti fatti nel mio volere, che non appena l'anima entra in esso per agire, l'ombra della mia luce la circonda, ed io corro per fare che il mio atto ed il suo fosse un solo, e siccome io sono l'atto primo di tutta la creazione, vedi dunque come quasi è naturale che chi opera nella mia volontà si muove nel mio primo moto, ed operando nel mio viene a trovarsi ed opera nel moto di tutte le creature. ed io vedo la creatura, la sento, che scorrendo nel mio stesso moto, in tutti i moti di esse mi dà tanti atti divini per quanti atti umani e offensivi fanno tutte le altre, e questo solo perché ha operato nel mio primo moto. Perciò chi vive nel mio volere mi sostituisce per tutti, mi difende da tutti e mette in salvo il mio moto, cioè la mia stessa vita. Ecco perciò che l'operare nel mio volere è il prodigio dei prodigi, ma senza strepito, senza acclamazioni umani, ma è il mio vero trionfo su tutta la creazione, ed essendo il trionfo tutto divino, l'umano tace e non ha vocaboli equivalenti sul come acclamare il trionfo della mia suprema volontà. Anche a noi, come a Luisa, Gesù rivolge il suo invito, in medesima la tua intelligenza con la mia, affinché la tua circoli in tutte le intelligenze delle creature e riceva il vincolo di ciascun pensiero di esse, per sostituirli con tanti altri pensieri fatti nel mio volere, e io riceva la gloria come se tutti i pensieri fossero fatti nel modo divino. Allarga il tuo volere nel mio, nessuna cosa deve sfuggire che non resti presa nella rete della tua e mia volontà. Il mio volere in me ed il mio volere in te, devono fondersi insieme e tenere gli stessi confini interminabili, ma ho bisogno che il tuo volere si presti a distendersi nel mio e non gli sfugga nessuna cosa da me creata, affinché in tutte le cose io senta l'eco della volontà divina nella volontà umana, affinché vi generi la mia somiglianza volume 14, 28 luglio 1922. E la creatura risponde al suo Dio. Amor mio, entro nel tuo volere, e qui trovo tutti i pensieri della tua mente e tutti quelli delle creature, ed io faccio corona coi miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi, e poi li unisco insieme, facendone uno solo, per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione della stessa tua intelligenza. E Gesù. Figlia inseparabile della mia volontà, come son contento nel sentire e ripetere ciò che faceva la mia umanità nella mia volontà, ed io bacio i tuoi pensieri nei miei, le tue parole nelle mie, il tuo palpito nel mio. 6 settembre 1921, volume 13. Il 19 marzo 1924, volume 16. Luisa scrive, Mi stavo fondendo nel mare immenso del voler divino ed il mio dolce Gesù mi ha detto, Figlia mia, benedico il tuo cuore, i tuoi palpiti, i tuoi affetti, le tue parole, i tuoi pensieri, fino il tuo più piccolo moto, affinché tutti, con la mia benedizione, restino investiti di una virtù divina, in modo che entrando nel mio volere portino con sé, in virtù della mia benedizione, questa virtù divina, ed abbiano il potere di diffondersi in tutti, darsi a tutti e moltiplicarmi per ciascuno, per darmi l'amore, la gloria, come se tutti avessero la mia vita in loro. Perciò, entra nel mio volere, penetra tra il cielo e la terra, gira per tutti il mio volere è luce purissima, e questa luce contiene l'onniveggenza, il passaporto per poter penetrare nei più intimi nascondigli, nelle fibre più secrete, nell'abisso delle profondità e nello spazio delle altezze più alte onde metti in giro nella mia volontà i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi palpiti, le tue pene, tutto il tuo essere, non lasciare nulla in te stessa, affinché, col passaporto della luce della mia volontà e con la mia virtù divina, entri in ogni atto di creatura e moltiplichi la mia vita in ciascuna di esse. Oh, come sarò contento nel vedere che la creatura, in virtù della mia volontà, riempie cielo e terra di tante mie vite per quante creature esistono. Ondio, continua Luisa, mi sono abbandonata nel volere supremo, e girando in esso facevo scorrere i miei pensieri, le mie parole, le mie riparazioni, eccetera, in ciascuna intelligenza creata ed in tutto il resto dell'operato umano, e come facevo i miei atti restava formato Gesù. Oh, come era bello ed incantevole vedere tanti Gesù dovunque passava il passaporto della luce dell'eterna volontà. Volume 17, 2 ottobre 1924 Il mio amabile Gesù mi ha detto, prostrati innanzi alla nostra Maestà Suprema ed offri le tue adorazioni, i tuoi omaggi, le tue lodi, a nome di tutti, con la potenza della nostra volontà, con la sapienza e con la volontà del nostro amore supremo. Così sentiremo in te la potenza della nostra volontà che ci adora, la sapienza della nostra volontà che ci glorifica, l'amore della nostra volontà che ci ama e ci loda. E siccome la potenza, la sapienza e l'amore delle tre divine persone sono in comunicazione con l'intelletto, memoria e volontà di tutte le creature, sentiremo scorrere le tue adorazioni, gli omaggi e le lodi in tutte le intelligenze delle creature, che levandosi tra il cielo e la terra ci faranno sentire l'eco della nostra stessa potenza, sapienza e amore, che ci adora, ci loda e ci ama. Adorazioni più grandi, omaggi più nobili, amore e lodi più divine non puoi darci. Nessun altro atto può eguagliare questi atti, né darci tanta gloria e tanto amore, perché vediamo aleggiare nell'atto della creatura la potenza, la sapienza ed il reciproco amore delle tre divine persone. Troviamo gli atti nostri nell'atto della creatura. Come non gradirli e non dar loro la supremazia sopra tutti gli altri atti. Il 27 maggio 1922, volume 14 Luisa scrive, Stavo pensando tra me, se è così grande un atto fatto nel tuo volere, quanti, ahimè, me ne faccio sfuggire. Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, Figlia mia, c'è. L'atto preventivo e l'atto attuale. Il preventivo è quello, quando l'anima, dal primo sorgere del giorno, fissa la sua volontà nella mia, e si decide e si conferma di voler vivere ed operare solo nel mio volere, previene tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel mio volere. Con la volontà preventiva il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti, come dentro di un solo atto attuale. Ma però, l'atto preventivo può essere ombrato, oscurato dai modi umani, dalla volontà propria. Dalla stima, dalla trascuratezza ed altro, che sono come nubi innanzi al sole, che rendono meno vivi dalla sua luce sulla faccia della terra. Invece l'atto attuale non è soggetto a nubi, ma a virtù di diradare le nubi se ci sono, e fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita, con tale vivezza di luce e calore da formare altrettanti nuovi soli, l'uno più bello dell'altro. però tutti e due sono necessari, il preventivo dà la mano, dispone e forma il piano all'attuale, l'attuale conserva ed allarga il piano del preventivo. Per entrare nel mio volere non ci sono vie né porte né chiavi, perché il mio volere si trova dappertutto, scorre sotto i piedi, a destra e a sinistra, sopra il capo e dovunque. La creatura non deve fare altro che togliere la pietruzza della sua volontà, che, adonta che sta nel mio volere, non prende parte né gode dei suoi effetti, rendendosi come strania nel mio volere, perché la pietruzza della sua volontà impedisce come all'acqua di scorrere nel lido per correre altrove, perché le pietre glielo impediscono. Ma se l'anima toglie la pietruzza della sua volontà, nel medesimo istante lei scorre in me ed io in lei, trova tutti i miei beni a sua disposizione, luce, forza, aiuto, ciò che vuole. Ecco perché non ci sono vie, né porte, né chiavi, basta che si voglia e tutto è fatto. Il mio volere prende l'impegno di tutto e di darle ciò che le manca, e la fa spaziare nei confini interminabili della mia volontà a volume 12, 16 febbraio 1921. Figlia mia, il fonderti nella mia volontà è l'atto più solenne, più grande, più importante di tutta la tua vita. Fonderti nella mia volontà è entrare nell'ambito dell'eternità, abbracciarla, baciarla e ricevere il deposito dei beni che contiene la volontà eterna. Anzi, come l'anima si fonde nel supremo volere, tutti le vanno incontro per comunicare in lei tutto ciò che hanno di beni e di gloria. Gli angeli, i santi, la stessa divinità, tutti comunicano, sapendo che comunicano in quella stessa volontà in cui tutto è al sicuro. Anzi, l'anima, col ricevere questi beni, coi suoi atti nella volontà divina li moltiplica e ridona a tutto il cielo doppia gloria ed onore. Sicché col fonderti nella mia volontà metti in moto cielo e terra. È una nuova festa a tutto l'Empireo. E siccome il fondersi nella mia volontà è amare e dare per tutti e per ciascuno, senza escludere nessuno, così io, nella mia bontà, per non farmi vincere in amore dalla creatura, depongo in lei, nell'anima fusa nella divina volontà. I beni di tutti, e tutti i beni possibili che in me contengo, ne può mancare lo spazio dove deporre tutti i beni, perché la mia volontà è immensa e si presta a ricevere tutto. Se tu sapessi che fai e che succede col fonderti nella mia volontà, ne spasimeresti di desiderio di fonderti continuamente. L'anima che si fonde nella mia volontà, riceve come in deposito tutti i miei beni divini ed eterni. Gli stessi santi fanno a gara per deporre i loro meriti nell'anima fusa nella mia volontà, perché sentono in lei la gloria, la potenza della mia volontà, e si sentono glorificati in modo divino dalla piccolezza della creatura 4 gennaio 1925, volume 17. Il 10 maggio 1925, per obbedire al confessore, Luisa scrive più dettagliatamente la sua esperienza del fondersi, volume 17. Scrivo solo per obbedire e vi fa un misto di cose passate e di cose presenti. Molte volte nei miei scritti dico, mi stavo fondendo nel santo voler divino, e non mi spiego di più. Ora, costretta dall'ubbedienza dico quello che mi succede nel fondermi. Mentre mi fondo, innanzi alla mia mente si fa presente un vuoto immenso. tutto di luce, che non si trova né dove giunge l'altezza né dove arriva la profondità, né i confini di destra né di sinistra, né quello davanti né quello di dietro. In mezzo a questa immensità, ad un punto altissimo mi sembra di vedere la divinità, oppure le tre divine persone che mi aspettano, ma questo sempre mentalmente, ed io, non so come, una piccola bambina esce da me, ma sono io stessa, forse è la piccola anima mia, ma è commovente vedere questa piccola bambina mettersi in via in questo vuoto immenso, tutta sola, cammina timida in punta di piedi, con gli occhi sempre rivolti dove scorge le tre divine persone, perché teme che si abbassa lo sguardo in quel vuoto immenso, non sa a qual punto deve andare a finire, tutta la sua forza è in quello sguardo fisso in alto, che essendo ricambiato con lo sguardo dell'altezza suprema, prende forza nel cammino, ora, mentre giunge innanzi a loro, si sprofonda con la faccia nel vuoto per adorare la maestà divina, ma una mano delle divine persone rialza la piccola bambina, e le dicono, la figlia nostra, la piccola figlia della nostra volontà, vieni nelle nostre braccia, ed essa, nel sentire ciò si mette in festa e mette in festa le tre divine persone, che aspettano il disimpegno del suo ufficio dal loro affidatole, ed essa con una grazia propria di bambina dice, vengo ad adorarvi, a benedirvi, a ringraziarvi per tutti, vengo a legarvi al vostro trono tutte le volontà umane di tutte le generazioni, dal primo all'ultimo uomo, affinché tutti riconoscano la vostra volontà suprema, l'adorino, l'amino e le diano vita nelle anime loro. Maestà suprema, in questo vuoto immenso ci sono tutte le creature, ed io voglio prenderle tutte per metterle nel vostro santo volere, affinché tutte ritornino al principio da dove sono uscite, cioè dalla vostra volontà, perciò sono venuta nelle vostre braccia paterne, per portarvi tutti i vostri figli e miei fratelli, e legarli tutti con la vostra volontà, ed io a nome di tutti e per tutti, voglio ripararvi e darvi l'omaggio, la gloria, come se tutti avessero fatto la vostra santissima volontà. Ma, dè, vi prego che non più ci sia separazione tra volontà divina e umana. e una piccola bambina che ciò vi chiede, e ai piccoli so che voi non sapete negar nulla. Ma chi può dire tutto? Sarei troppo lunga, oltre che mi mancano i vocaboli di ciò che dico innanzi all'altezza suprema, mi sembra che qui nel basso mondo non si usa quel linguaggio di quel vuoto immenso. altre volte, poi, mentre mi fondo nel divin volere e quel vuoto immenso si fa davanti alla mia mente, giro per tutte le cose create e vi imprimo un ti amo per quella maestà suprema, come se io volessi empire tutta l'atmosfera di tanti ti amo, per ricambiare l'amore supremo di tanto amore verso le creature, anzi, giro per ogni pensiero di creatura e vi imprimo il mio ti amo, per ogni sguardo e vi lascio il mio ti amo, per ogni bocca e ad ogni parola vi suggello il mio ti amo, per ogni palpito, opera e passo e li copro col mio ti amo al mio Dio, scendo fin laggiù, nel mare, nel fondo dell'oceano, e in ogni guizzo di pesce, in ogni goccia d'acqua, li voglio riempire del mio ti amo. Onde, dopo che dappertutto, come se seminasse il mio ti amo, la piccola bambina si porta innanzi alla maestà divina, e dice come se volesse fargli una sorpresa, mio creatore padre mio, mio Gesù e mio eterno amore, guardate, tutte le cose da parte di tutte le creature vi dicono che vi amano, dovunque c'è il ti amo per voi, cielo e terra ne sono pieni, e voi non concederete alla piccola piccina che la vostra volontà scenda in mezzo alle creature, si faccia conoscere, faccia pace con la volontà umana, e prendendo il suo giusto dominio, il suo posto d'onore, nessuna creatura faccia più la sua volontà, ma sempre la vostra? Altre volte, poi, mentre mi fondo nel divin volere, voglio dolermi di tutte le offese fatte al mio Dio, e riprendo il mio giro in quel vuoto immenso per trovare tutto il dolore che il mio Gesù ebbe per tutti i peccati, lo faccio mio e giro ovunque, nei luoghi più riconditi e segreti, nei luoghi pubblici, su tutti gli atti umani cattivi per dolermi per tutte le offese e per ciascun peccato, mi sento che vorrei gridare ad ogni moto della creatura, dolore, perdono. E per fare che tutti lo sentano, lo imprimo nel rumoreggiare del tuono, affinché tuoni in tutti i cuori, dolore di aver offeso il mio Dio, perdono nello scoppio della folgore, dolore nel sibilo del vento, dolore, perdono, nel tintinio delle campane, dolore e perdono, insomma, in tutto. E poi porto al mio Dio il dolore di tutti ed imploro perdono per tutti e dico, Gran Dio, fate scendere la vostra volontà sulla terra, affinché il peccato non abbia più luogo. E la sola volontà umana che produce tante offese che pare che allaga la terra di peccati, la vostra volontà sarà la distruggetrice di tutti i mali. perciò, vi prego, contentate la piccola figlia della vostra volontà, che non vuole altro che la vostra volontà sia conosciuta ed amata e regni in tutti i cuori. Ricordo che un giorno, continuo ancora Luisa, stavo fondendomi nel santo voler divino, ed io guardavo il cielo che pioveva di rotto, e sentivo un piacere nel vedere scendere l'acqua sulla terra, ed il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno, con amore e tenerezza indicibile mi diceva, figlia mia, in quelle gocce d'acqua che vedi scendere dal cielo c'è la mia volontà, essa corre rapidamente insieme con l'acqua, si parte per dissetare le creature, scendere nelle viscere umane, nel loro vene, per infrescarle e costituirsi vita delle creature e portar loro il mio bacio, il mio amore, parte per innaffiare la terra, per fecondarla e prepararle il cibo, parte per tant'altri bisogni delle creature. La mia volontà vuole aver vita in tutte le cose create per dar vita celeste e naturale a tutte le creature. Ma essa, mentre va come in festa, piena d'amore verso tutti, non riceve l'adeguato ricambio, e resta come digiuna da parte delle creature. figlia mia, la tua volontà fusa nella mia, corre pure in quell'acqua che piove dal cielo, corre insieme dovunque essa va, non la lasciare sola e dalle il ricambio del tuo amore, e per tutti. Ma mentre ciò diceva, sono restate incantate le mie pupille, non le potevo spostare da dentro quell'acqua che scorreva, la mia volontà correva insieme, vedevo in quell'acqua le mani del mio Gesù moltiplicate in tante, per portare con le sue mani l'acqua a tutti. Onde, chi può dire quello che provavo in me? Lo può dire solo Gesù, che ne è l'autore. Ma chi può dire tanti modi nel fondermi nel suo santissimo volere? Per ora basta il dire, se Gesù vorrà darà i vocaboli e la grazia di dire altro, ed io riprenderò il mio dire. Oltre di ciò, stavo dicendo al mio Gesù, dimmi amor mio, che cosa è questo vuoto che mi si presenta davanti alla mia mente quando mi fondo nella tua santissima volontà? Chi è questa bambina che esce da me, e perché sente una forza irresistibile di venire al tuo trono per venire a deporre i suoi piccoli atti nel grembo divino, quasi per fargli una festa? Ed il mio dolce Gesù, tutto bontà mi ha detto, figlia mia, il vuoto è la mia volontà, messo a tua disposizione, che dovrebbe riempirsi di tant' atti per quanti le creature ne avrebbero fatti se avessero compito la nostra volontà. Questo vuoto immenso che tu vedi, rappresentato nella nostra volontà, uscì dalla nostra divinità bene di tutti della creazione per felicitare tutto e tutti, quindi era come di conseguenza che tutte le creature dovevano riempire questo vuoto col ricambio dei loro atti e donazione della loro volontà al loro creatore e non avendolo fatto, facendoci l'offesa più grave, perciò chiamammo te con missione speciale, per essere rifatti e ricambiati di ciò che gli altri ci dovevano, ed ecco la causa per cui prima ti disponemmo con una lunga catena di grazie, e poi ti domandammo se volevi far vita nella nostra volontà, e tu accettasti con un sì, legando la tua volontà trono senza volerla più conoscere, perché volontà umana e divina non si riconcilia non ne possono vivere insieme, onde, quel sì, cioè la tua volontà, esiste fortemente legata al nostro trono, ecco perciò l'anima tua, come piccola bambina, è come tirata innanzi alla maestà suprema, perché c'è il tuo volere innanzi a noi, che come calamita ti attira, e tu invece di guardare la tua volontà ti occupi solo di portare in grembo a noi tutto ciò che hai potuto fare nella nostra volontà, e depone nel nostro seno la nostra stessa volontà come l'omaggio più grande che a noi conviene, e ed il ricambio a noi più gradito onde la non curanza della tua volontà ed il solo volere nostro che vive in te ci mette in festa i tuoi piccoli atti fatti nel nostro volere ci portano le gioie di tutta la creazione sicché pare che tutto ci sorrida e ci fanno festa e nel vederti scendere dal nostro trono senza neppure guardare la tua volontà portandoti la nostra è per noi la gioia più grande perciò ti dico sempre si attenta nel nostro volere perché in esso c'è molto da fare e quanto più farai tanta più fosta ci farai ed il nostro volere si verserà a torrenti in te e fuori di te il 17 maggio 19 25 sempre in spirito di obbedienza luisa completa la sua esposizione avendo fatto sentire al confessore ciò che sta scritto qui innanzi in data del 10 maggio non è restato contento e mi ha imposto di riprendere a scrivere il modo di fondermi nel santo voler divino ed io solo per ubbidire e per timore che il mio Gesù potesse menomamente dispiacersi riprendo il mio dire ora aggiungo che mentre si presenta alla mia mente quel vuoto immenso nel fondermi nel supremo volere la piccola bambina riprende il suo giro ed elevandosi in alto vuole ricambiare il suo dio di tutto l'amore che ebbe per tutte le creatore nella creazione vuole onorarlo come creatore di tutte le cose perciò gira per le stelle ed in ogni scintillio di luce imprime il mio ti amo e gloria al mio creatore in ogni atomo di luce del sole che scende nel basso ti amo e gloria in tutta l'estensione dei cieli tra la distanza d'un passo all'altro il mio ti amo e gloria nel gorgheggio dell'uccello nel battere delle sue ali amore e gloria al mio creatore nel filo dell'erba che spunta dalla terra nel fiore che sboccia nel profumo che si eleva amore e gloria sull'altezza dei monti e nella profondità delle valli amore e gloria giro per ogni cuore di creatura come se mi volessi chiudere dentro e gridare dentro ad ogni cuore il mio ti amo e gloria al mio creatore vorrei che uno fosse il grido una la volontà una l'armonia di tutte le cose gloria ed amore al mio creatore e dopo come se avessi riunito tutto insieme in modo che tutto dice ricambio d'amore ed attestato di gloria per tutto ciò che il Dio ha fatto nella creazione mi porto al suo trono e gli dico maestà suprema e creatore di tutte le cose questa piccola bambina viene nelle vostre braccia per dirvi che tutta la creazione a nome di tutte le creature vi dà non solo il ricambio dell'amore ma della giusta gloria per tante cose da voi create per amor nostro nella vostra volontà in questo vuoto immenso ho girato dappertutto affinché tutte le cose vi glorifichino vi amino e vi benedicano e giacché vi ho messo in rapporto l'amore tra creatore e creatura che la volontà umana aveva spezzato e la gloria che tutti vi dovevano fate scendere la vostra volontà sulla terra affinché vincoli raffermi tutti i rapporti tra creatore e creatura tutte le cose ritorneranno nell'ordine primiero da voi stabilito perciò fate presto non più indugiate non vedete com'è piena di mali la terra solo la vostra volontà può arrestare questa corrente può metterla in salvo ma la vostra volontà conosciuta è dominatrice onde dopo ciò continuo ancora luisa sento che il mio ufficio non è completo perciò scendo nel basso di quel vuoto per ricambiare il mio gesù dell'opera della redenzione e come se trovassi in atto tutto ciò che lui fece voglio dargli il mio ricambio di tutti gli atti che avrebbero dovuto fargli tutte le creature nell'aspettarlo e riceverlo sulla terra e poi come se mi volessi trasmutare tutta in amore per Gesù ritorno al mio ritornello e dico ti amo nell'atto di scendere dal cielo vimprimo il mio ti amo nell'atto che fosti concepito ti amo nella prima goccia di sangue che si formò nella tua umanità ti amo nel primo palpito del tuo cuore per segnare tutti i tuoi palpiti col mio ti amo ti amo nel tuo primo respiro ti amo nelle tue prime pene ti amo nelle prime tue lacrime che versasti nel seno materno voglio ricambiare le tue preghiere le tue riparazioni le tue offerte col mio ti amo ed ogni istante della tua vita voglio suggellare col mio ti amo ti amo nel tuo nascere ti amo nel freddo che soffristi ti amo in ogni stilla di latte che succhiasti dalla tua mamma intendo di riempire coi miei ti amo le fasce con cui la tua mamma ti fasciò stendo il mio ti amo sopra di quella terra in cui la tua madre ti adagiò nella mangiatoia e le tue tenerissime membra sentirono la durezza del fieno ma più che fieno la durezza dei cuori il mio ti amo in ogni tuo vagito in tutte le tue lacrime e pene della tua infanzia faccio scorrere il mio ti amo in tutti i rapporti comunicazioni amore che avesti con la tua mamma ti amo in tutte le parole che dicesti nel cibo che prendesti nei passi che mani ti amo in tutti gli atti che facesti nella tua vita nascosta suggello il mio ti amo in ogni tuo atto interno e pene che soffristi stendo il mio ti amo su quelle vie che percorresti nell'aria che respirasti in tutte le prediche che facesti nella tua vita pubblica il mio ti amo scorre nella potenza dei miracoli che facesti nei sacramenti che o mio Gesù anche nelle fibre più intime del tuo cuore in primo il mio ti amo per me e per tutti il tuo volere mi fa tutto presente ed io nulla voglio lasciarti in cui non ci sia impresso il mio ti amo la tua piccola figlia del tuo volere sente il dovere che se altro non sa farti almeno abbia un mio piccolo ti amo per tutto e perciò il mio ti amo ti segue in tutte le pene della tua passione in tutti gli sputti disprezzi ed insulti che ti fecero il mio ti amo suggella ogni goccia del tuo sangue che versasti ogni colpo che ricevesti in ogni piaga che si formò nel vostro corpo in ogni spina che trafisse la vostra testa nei dolori acerbi della crocifissione nelle parole che pronunziasti sulla croce fin nell'ultimo tuo respiro intendo d'imprimere il mio ti amo voglio chiudere tutta la tua vita tutti i tuoi atti col mio ti amo dovunque voglio che tu tocchi che veda che senta il mio continuo ti amo il mio ti amo non ti lascerà mai il tuo stesso volere è la vita del mio ti amo ma sai che vuole questa piccola bambina che quel divin volere che tanto amasti e facesti in tutta la tua vita sulla terra si faccia conoscere a tutte le creature affinché tutte lo amino e adempiano la tua volontà come in cielo così in terra vuole vincerti in amore affinché doni la tua volontà a tutte le creature d rendi felice questa povera piccina che non vuole altro che ciò che vuoi tu che la tua volontà sia conosciuta e regni sulla terra ora credo che l'ubbidienza ne sarà in qualche modo contenta commenta luisa a riguardo di quanto ha scritto sulla sua esperienza di come avviene il suo fondersi nel divin volere è vero che in molte cose ho dovuto fare dei salti altrimenti non la finirei più il fondermi nel supremo volere è per me come una fonte che sorge e ogni piccola cosa che sento che vedo un'offesa fatta al mio Gesù mi è occasione di nuovi modi e nuove fusioni nella sua santissima volontà ora riprendo col dire che il mio dolce Gesù mi ha detto figlia mia e ciò che hai detto sul fonderti nel mio volere ci vuole un altro appello qual è quello di fonderti nell'ordine della grazia in tutto ciò che ha fatto e farà il santificatore ai santificandi qual è lo spirito santo molto più che se la creazione si addice al padre mentre siamo sempre unite le tre divine persone nell'operare e la redenzione al figlio il fiat voluntas tua si additerà allo spirito santo ed è proprio nel fiat voluntas tua che il divino spirito farà sfoggio della sua opera tu lo fai quando venendo innanzi alla maestà suprema dici vengo a ricambiare in amore a tutto ciò che fa il santificatore ai santificanti vengo ad entrare nell'ordine della grazia per potervi dare la gloria ed il ricambio dell'amore come se tutti si fossero fatti santi ed a ripararvi tutte le opposizioni le incorrispondenze alla grazia e per quanto è da te cerchi nella nostra volontà gli atti della grazia dello spirito santificatore per fare tuo il suo dolore i suoi gemiti segreti i suoi sospiri angosciosi nel fondo dei cuori nel vedersi si male accolto e siccome il primo atto che fa è portare la nostra volontà come atto completo della loro santificazione nel vedersi respinto gemme con gemiti inenarrabili e tu nella tua infantile semplicità gli dici spirito santificatore fate presto vi supplico vi riprego fate conoscere a tutti la vostra volontà affinché conoscendola l'amino e accolgano il vostro primo atto della loro santificazione completa qual è la santa vostra volontà figlia mia le tre divine persone siamo inseparabili e distinte così vogliamo manifestare alle umane generazioni le nostre opere verso di loro che mentre siamo uniti tra noi ognuno di noi vuole manifestare distintamente il suo amore e la sua opera verso le creature per tanti anni alla scuola del divino maestro luisa insegna anche a noi quinta ora delle ore della passione di nostro signore gesù entriamo in gesù e dopo esserci penetrati in tutto il suo interno nelle sue più intime fibre in quei palpiti di fuoco nella sua intelligenza che era come incendiata prendiamo questo amore e rivestiamoci dentro e fuori del fuoco che incendiava gesù poi uscendo fuori da lui e riversandoci nella sua volontà vi troveremo tutte le creature diamo ad ognuna l'amore di gesù e ritoccando i loro cuori le loro menti con questo amore cerchiamo di trasformarle tutte in amore e poi coi desideri coi palpiti coi pensieri di gesù formiamo gesù nel cuore di ogni creatura indi li porteremo tutte le creature che tengono gesù nel proprio cuore e le metteremo intorno a lui dicendogli o gesù ti portiamo tutte le creature con altrettanti gesù nel cuore per darti ristoro e conforto non abbiamo altri modi per poter dare ristoro al tuo amore che portarti ogni creatura nel cuore ciò facendo daremo i veri sollievi a gesù che sono tante le fiamme che lo bruciano che va ripetendo son bruciato e non vecchi prenda il mio amore d da te mi ristoro prendete il mio amore di da te e mi amore rispondiamo a quest'ardente desiderio di gesù vita mia tu sai che non ho nulla e tutto ciò che faccio lo prendo da te e poi lo lascio di nuovo a te per fare che le cose mie stando in te abbiamo continuato vita in te ed io rimango sempre nulla perciò prendo il tuo amore e lo faccio mio e ti dico ti amo con un amore eterno immenso con un amore che non ha limiti né fine che è uguale al tuo volume 11 primo novembre 1915 io venendo sulla terra dovevo farla da dio dice gesù a luisa il 20 dicembre 1925 volume 18 punto e virgola dovevo completare in tutto l'opera dell'uomo dovevo innalzarlo al punto primo della sua origine col dargli il possesso della mia volontà e sebbene molti se ne servono della mia venuta come rimedio alla loro saldezza e quindi prendono la mia volontà come medicina come forza e come antidoto per non andare all'inferno io aspetterò ancora affinché sorgano le anime che la prendano come vita e col farla conoscere ne prendano il possesso e così completerò l'opera della mia venuta sulla terra ed avrà frutto l'innesto divino formato di nuovo con la creatura e le mie lacrime si cambieranno in sorrisi celesti e divini per me e per loro volume 13 25 dicembre 1921 il mio volere contiene tutto e chi lo possiede può darmi tutto la mia volontà fu tutto per me mi concepì mi formò mi fece crescere e mi fece nascere se la mia mamma contribuì col darmi il sangue lo potette fare perché era la mia volontà assorbita in lei che lo conteneva se non avesse avuto il mio volere non avrebbe potuto contribuire a formare la mia umanità sicché la mia volontà diretta e quella assorbita nella mia mamma mi diedero la vita l'umano non aveva potere su di me per darmi nulla ma solo il volere divino col suo alito mi alimentò e mi diede alla luce ora figlia mia voglio confidarti un altro eccesso del mio amore chi fa la mia volontà e vive in essa abbraccia in pari tempo l'operato della mia umanità perché io voglio che la mia creatura si renda simile a me allora il mio volere si fonde con il suo depone in essa tutto il bene che contiene la costituisce custode di tutti gli omaggi e di tutti gli onori divini che si debbono all'eucaristia ogni cosa lei affido perché sono certo di mettere al sicuro il mio operato come vedi la mia volontà si rende in tal modo attrice e spettatrice e depositaria di tutti i miei beni di tutte le mie opere e della mia stessa vita divina il 24 ottobre 1918 Gesù spiega a Luisa Piccarreta come si sia voluto donare a noi nel sacramento eucaristico ed afferma che mai la creatura avrebbe potuto riceverlo se egli stesso non avesse dato tutta la sua vita per preparare l'anima a questo figlia mia per fare sì che la creatura potesse avere tutti i mezzi necessari per ricevermi voglio istituire questo sacramento l'ultimo della mia vita con il quale ho disposto intorno a ciascuna ostia tutta la mia vita come preparazione di ciascuna creatura che mi avrebbe ricevuto mai la creatura avrebbe potuto ricevermi se non ci fosse stato un dio preparatore che preso da eccesso di amore si è voluto dare alla creatura non potendo essa ricevermi lo stesso eccesso mi ha portato a dare tutta la mia vita per prepararla ho messo i passi miei davanti ai suoi le opere miei davanti alle sue il mio amore davanti al suo poiché in me c'era la passione ho messo anche le mie pene per prepararla perciò rivestiti di me copriti di ciascun atto mio e vieni e seguendo questi insegnamenti di Gesù che dobbiamo prepararci a riceverlo sacramentalmente sapendo che Gesù vuole essere imitato nella sua vita eucaristica 3 luglio 1902 volume 4 figlia mia ogni periodo della mia vita ottiene dall'uomo distinti e speciali atti e gradi di imitazione di amore di riparazione di altro il periodo della mia vita eucaristica è vita di nascondimento e di continua trasformazione posso dire che il mio amore dopo che è giunto all'eccesso è anche consumato non potevo trovare nella mia infinita sapienza altri segni esterni di dimostrazione di amore per l'uomo mentre l'incarnazione la vita e la passione di croce ottengono amore lode ringraziamento ed imitazione la vita sacramentale ottiene dall'uomo un amore statico amore di disperdimento in me amore di perfetta consumazione consumandosi l'anima nella mia stessa vita sacramentale essa può dire di fare presso la divinità quegli stessi uffici che continuamente faccio io presso Dio per amore degli uomini questa consumazione porterà l'anima alla vita eterna Gesù è nascosto nell'ostia per dare vita a tutti scrive Luisa nelle riflessioni alla quarta ora delle ore della passione di nostro Signore Gesù nel suo nascondimento abbraccia tutti i secoli e dà luce a tutti così noi nascondendoci in Lui con le nostre preghiere e riparazioni daremo luce vita a tutti per farci simili a Gesù Cristo dobbiamo nascondere tutto in Lui cioè pensieri sguardi parole palpiti affetti desideri passi ed opere e fin le stesse preghiere nasconderle nelle preghiere di Gesù e come l'amante Gesù nell'Eucaristia abbraccia tutti i secoli così li abbracceremo insieme e stretti a Lui saremo pensiero di ogni mente parola di ogni lingua desiderio d'ogni cuore passo d'ogni piede opera d'ogni braccio così facendo storneremo dal cuore di Gesù il male che vorrebbero fargli tutte le creature cercando di sostituire a tutto questo male tutto il bene che ci sarà possibile fare e in tal modo pressare Gesù a dare a tutte le anime salvezza santità amore le nostre azioni i nostri atti le nostre preghiere le ore della passione dobbiamo farle con le stesse intenzioni di Gesù nella sua volontà e sacrificando noi stessi come Lui per la gloria del Padre e per il bene delle anime dobbiamo metterci nella disposizione di sacrificarci in tutto per amore del nostro amabile Gesù uniformandoci al suo spirito operando con gli stessi suoi sentimenti e abbandonandoci in Lui non solo in tutti i dolori e contrarietà esterni ma molto più in tutto ciò che potrà disporre nel nostro interno e così all'occasione ci troveremo pronti ad accettare qualunque se tutto ciò lo faremo nella volontà di Dio che contiene tutte le dolcezze tutti i contenti ed in modo immenso noi daremo a Gesù dei larghi sorsi dolci in modo da mitigare l'attossicamento che gli arrecano le creature e consolare il suo divin cuore prima ora delle ore della passione di nostro Signore Gesù anche quando camminava Gesù facendo i passi non li faceva a vuoto in questi glorificava il Padre e chiedeva la salvezza delle anime nei nostri passi dobbiamo mettere le stesse intenzioni che metteva Gesù cioè di sacrificarci per la gloria del Padre e per il bene delle anime dobbiamo inoltre immaginarci di mettere i nostri passi in quelli di Gesù e come Gesù Cristo non li metteva a vuoto ma racchiudevano i Suoi tutti quelli delle creature riparando tutti i passi cattivi per dare al Padre la gloria dovuta e vita tutti i passi cattivi delle creature perché potessero camminare per la via del bene così faremo ancora noi mettendo i nostri passi in quelli di Gesù Cristo con le sue stesse intenzioni i pensieri gli affetti i palpiti le preghiere le azioni il cibo il lavoro dobbiamo chiuderli nel cuore di Gesù Cristo nell'atto di operare e così facendo le nostre azioni prenderanno l'attitudine divina quando l'anima fondendosi in lui fa i suoi atti immediati con Gesù il buon Gesù si sentirà tanto tirato verso quest'anima che farà insieme ciò che essa fa e trasmuterà in divino l'operato della creatura seconda ora delle ore della passione di nostro Signore Gesù amor mio voglio darti a nome di tutte le creature amore per chi non ti ama lodi per chi ti disprezza benedizioni ringraziamenti ubbidienza per tutti protesto che in qualunque offesa che riceverai io intendo offrirti tutta me stessa per ripararti fare l'atto opposto alle offese che le creature ti fanno e consolarti coi miei baci e continui atti di amore ma vedo che sono troppo misera ho bisogno di te per poterti riparare davvero perciò mi unisco alla tua santissima manità ed insieme con te unisco i miei pensieri ai tuoi per riparare i pensieri cattivi miei e di tutti la mia bocca alla tua per riparare le bestemmie e i discorsi cattivi il mio cuore al tuo per riparare le tendenze i desideri e gli affetti cattivi in una parola voglio riparare tutto ciò che ripara la tua santissima manità unendomi all'immensità del tuo amore per tutti e dal bene immenso che fai a tutti ma non son contenta ancora voglio unirmi alla tua divinità e questo mio nulla lo sperdo in essa e così ti do il tutto ti do il tuo amore per ristorare le tue amarezze ti do il tuo cuore per ristorarti delle nostre freddezze incorrispondenze ingratitudini e poco amore delle creature ti do le tue armonie per rinfrancarti l'udito dagli assordamenti che ricevi con le bestemmie punto ti do la tua bellezza per rinfrancarti delle bruttezze delle anime nostre quando ci infanghiamo nella colpa ti do la tua purità per rinfrancarti delle mancanze di rettitudine d'intenzione e del fango e del marciume che vedi in tante anime ti do la tua immensità per rinfrancarti delle volontarie strettezze in cui si mettono le anime ti do il tuo ardore per bruciare tutti i peccati e tutti i cuori affinché tutti ti amino e nessuno più ti offenda insomma ti do tutto ciò che sei tu per darti soddisfazione infinita amore eterno immenso ed infinito voglio voglio entrare nel tuo interno e darti oh Gesù palpiti per palpiti respiri per respiri affetti per affetti desideri per desideri che nessun palpito si ripercuo si ripercuota nel tuo cuore e così lenire tutte le tue interne amarezze intendo formare onde di affetti e di desideri per allontanare tutti gli affetti e i desideri cattivi che potrebbero menomamente contristare il tuo cuore intendo ancora oh mio Gesù formare onde di respiri e di pensieri per allontanare qualunque respiro e pensiero che potrebbe menomamente dispiacerti starò bene in guardia oh Gesù affinché nulla più ti affligga e aggiunga alle tue pene interne altre amarezze oh mio Gesù De fa che tutto il mio interno noti nell'immensità del tuo così potrò ritrovare amore sufficiente e volontà sufficiente per far che non entri nel tuo interno amore cattivo né volontà che potrebbe dispiacerti diciottesima ora delle ore della passione di nostro Signore Gesù punto e questo un modo nuovo e del tutto divino di rapportarci con il nostro creatore e con la dolce Madre Celeste Maria Seguiamo ancora Luisa e ai piedi di Gesù crocifisso ripetiamo insieme a lei Mio Gesù metto la mia testa nella tua voglio offrirti o dolce mio bene tutti i miei pensieri che come baci affettuosi ti consolino e leniscano l'amarezza delle tue spine metto i miei occhi nei tuoi e io voglio confortare i tuoi sguardi divini coi miei sguardi di amore metto la mia bocca nella tua dolce amor mio intendo mandarti fiumi d'amore per mitigarti in qualche modo l'amarezza del fiele e la tua sete ardente metto le mie mani nelle tue per ristorarti e raddolcire il tuo dolore ti offro le opere sante di tutte le creature metto i miei piedi nei tuoi vorrai riunire passi delle creature di tutte le generazioni passate presenti e future ed indirizzarli tutti a te per venirti a consolare nelle tue dure pene metto il mio cuore nel tuo povero cuore come è straziato o mio gesù come confortare tanto dolore mi diffonderò in te metterò il mio cuore nel tuo i miei ardenti desideri nei tuoi perché sia distrutto qualunque desiderio cattivo diffonderò il mio amore nel tuo perché col tuo fuoco siano bruciati i cuori di tutte le creature e distrutti gli amori profani crocifisso amor mio la tua santissima manità la faccio mia unita con la tua volontà ed insieme con te voglio fare ciò che fai tu permetti vita mia che scorrano i miei pensieri nei tuoi che scorre il mio palpito nel tuo cuore e tutto il mio essere in te affinché nulla mi possa sfuggire e possa ripetere atto per atto parola per parola tutto ciò che fai tu diciannovesima ora delle ore della passione di nostro signore gesù ed ancora ventunesima ora delle ore della passione di nostro signore gesù facciamo nostro l'amore di gesù le tenerezze di gesù e tutto ciò che faceva gesù per rendere contenta la mamma sua e per poterle dare il contento come glielo dava il figlio suo chiediamo a gesù tutto l'amore che portava la sua santissima madre la gloria che lei dava continuamente la tenerezza e tutte le sue tenerezze d'amore tutto ciò facciamolo nostro e diciamo alla celeste mamma abbiamo in noi gesù e per renderti contenta e per poter trovare noi ciò che trovavi in gesù diamo tutto a te inoltre mamma bella vogliamo ancora noi dare a gesù tutti i contenti che trovava in te perciò vogliamo entrare nel tuo cuore e prendere il tuo amore tutti i tuoi contenti tutte le tue tenerezze e premure materne per darli tutti a lui e con luisa ti accompagniamo afflitta madre alla sepoltura di gesù e vediamo che deponi nella testa di gesù la tua baciandola racchiudi in essa i tuoi pensieri e prendi per te le sue spine i suoi afflitti ed offesi pensieri e tutto ciò che ha sofferto nella sua santissima testa vorresti animare l'intelligenza di gesù con la tua per poter dare vita per vita negli occhi di gesù deponi i tuoi e prendi per te i suoi le sue lacrime ed amarezze ti sentiamo dire o figlio lascio il mio udito nel tuo e prendo per me ciò che ha sofferto il tuo udito santissimo voglio fondere il mio volto nel tuo e prendere per me il tuo e gli schiaffi gli sputti i disprezzi e tutto ciò che ha sofferto nel tuo volto santissimo voglio darti la mia lingua per animare la tua dammi ciò che tu hai sofferto nella tua santissima bocca insieme a Luisa anche ognuno di noi si rivolge a te o dolente madre deponimi tutta in gesù svottami di tutto per poter mettere tutto gesù in me come lo hai messo in te con le tue stesse mani chiudimi tutta tutta in gesù chiudi nella mia mente i pensieri di gesù affinché nessun altro pensiero entri in me chiudi gli occhi di gesù nei miei affinché mai possa sfuggire dal mio sguardo il suo udito nel mio onde sempre sempre lo ascolti ed in tutto compia il suo santissimo volere deponi il suo volto nel mio affinché mirandolo così sfigurato per amor mio lo ami lo compatisca e ripari la sua lingua nella mia onde parli preghi ed insegni con la lingua di gesù le sue mani nelle mie affinché ogni movimento che faccio ed ogni opera che compio abbia vita dalle opere e dalle azioni di gesù metti i suoi piedi nei miei affinché ogni mio passo sia per le altre creature una vita di salvezza di forza di zelo e chiudendo il suo cuore nel mio io possa vivere del suo amore dei suoi desideri delle sue opere ventiquattresima ora delle ore della passione di nostro signore gesù ottima scuola per entrare in questa vita nella divina volontà risulta questo scritto le ore della passione di nostro signore gesù gesù stesso vi attribuisce grande importanza per compenso che hai scritto le ore della passione dice gesù a luisa volume 11 ottobre 1914 ad ogni parola che hai scritto ti darò un'anima un bacio ed io amor mio questo a me e a quelli che le faranno che darai e gesù se le faranno insieme a me e con la mia stessa volontà ad ogni parola che reciteranno darò loro anche un'anima perché tutta la maggiore o minore efficacia di queste ore della passione sta nella maggiore o minore unione che hanno con me e facendole con la mia volontà la creatura si nasconde nel mio volere ed agendo il mio volere posso fare tutti i beni che voglio anche per una sola parola e questo ogni volta che le farete il 10 aprile 1913 volume 11 non riguarderò queste ore come cose vostre ma come cose fatte da me e vi darò i miei stessi meriti come se io stessi soffrendo in atto la mia passione e così vi farò conseguire gli stessi effetti secondo la disposizione delle anime questo in terra e per quale motivo premio maggiore non potrei darvi poi in cielo queste anime me le metterò di fronte saettando le consaette di amore di di contenti per quante volte hanno fatto le ore della mia passione e loro saetteranno me che dolce incanto sarà questo per quei beati alla mia mamma mai sfuggì il pensiero della mia passione e la a forza di ripetere la mia passione si riempì tutta di me così succede all'anima a forza di ripetere ciò che io soffri si riempie di me 24 marzo 1913 volume 11 o mio Gesù unisco le mie azioni alle tue per divinizzarli e le offro unite a tutte le opere che facesti con la tua santissima manità per darti tutta la gloria che ti avrebbero dato le creature se avessero operato santamente e confini retti ventesima ora delle ore della passione di nostro Signore Gesù e all'atto di prendere cibo prima di prendere il cibo scrive Luisa uniamo le nostre intenzioni a quelle del nostro amabile buon Gesù immaginandoci di avere nella nostra bocca la bocca di Gesù e muoviamo la nostra lingua e le nostre guance insieme con le sue così facendo non solo attireremo in noi la vita di Gesù Cristo ma ci uniremo con Lui per dare al Padre la gloria la lode l'amore il ringraziamento la riparazione completa dovuta dalle creature e che il buon Gesù faceva in quest'atto di prendere il cibo Gesù anche nel suo respiro si sente come soffocare per la perdita delle anime e noi gli daremo il nostro respiro d'amore a suo sollievo e prendendo il suo respiro toccheremo le anime che si distaccano dalle sue braccia per dar loro vita del respiro divino affinché invece di fuggire possano ritornargli e stringersi di più a Lui e quando ci troviamo e ne sentiamo che quasi il nostro respiro non esce libero pensiamo allora a Gesù che nel suo respiro contiene il respiro delle creature anche egli come le anime vanno perdute si sente togliere un respiro e noi mettiamo allora il nostro respiro dolente e affannato nel respiro di Gesù per sollevarlo e con la nostra corriamo appresso al peccatore per costringerlo a rinchiudersi nel cuore di Gesù terza ora delle ore della passione di nostro Signore Gesù ricevendo Gesù nell'Eucaristia l'anima deve permettere al Signore di trovare in lei le stesse gioie le stesse preghiere e riparazioni che Gesù trovava in se stesso quando vivendo nella sua umanità sulla terra riceveva se stesso nel sacramento eucaristico rivestita degli atti umano divini di Gesù la creatura ricevendo l'Eucaristia da al Padre la gloria completa da a Gesù stesso gloria completa contentezze divine sfoghi d'amore che nobilitano il Signore e l'anima riceve la grazia di consumarsi della stessa consumazione di Gesù scriveva Luisa Piccarreta il 24 febbraio del 1917 avendo ricevuto la comunione tenevo stretto al mio cuore il mio dolce Gesù gli ho detto vita mia quanto vorrei fare ciò che facesti tu stesso nel comunicarti il giovedì santo affinché tu potessi trovare in me le tue stesse contentezze le tue stesse preghiere le tue stesse riparazioni il mio sempre amabile Gesù mi ha detto figlia mia in questo breve giro dell'ostia io racchiudo tutto perciò vogli ricevere me stesso per fare atti completi che glorificavano il Padre degnamente quando le creature avrebbero ricevuto un Dio così davo alle creature il frutto completo della mia vita sacramentale altrimenti l'ostia sarebbe stata incompleta per la gloria del Padre e per il bene delle creature perciò in ogni ostia ci sono le mie preghiere i miei ringraziamenti e tutto quanto era necessario per glorificare il Padre che la creatura doveva fare quando la creatura manca io in ogni ostia continuo il mio lavorio come se da ciascuna anima ricevesse un'altra volta me stesso l'anima deve trasformarsi in me diventare una sola cosa con me e fare sua la mia vita le mie preghiere i miei gemiti di amore le mie pene i miei palpiti di fuoco con i quali vorrei bruciarla purtroppo non trovo anime che si abbandonino in preda alle mie fiamme io in questa ostia rinasco vivo muoio e mi consumo non trovo chi si consumi per me quando l'anima ripete ciò che faccio io sento come se un'altra volta ricevessi me stesso allora trovo gloria completa contentezze divine sfoghi di amore che mi nobilitano e do grazia all'anima di consumarsi della mia stessa consumazione Gesù desidera essere riscaldato dalle fredezze dei tabernacoli di pietra e dalle fredezze delle creature che sì lo ricevono ma con la loro superficialità e fredezza lo fanno morire di freddo e di fame per questo sceglie per sé come tabernacoli viventi le anime amanti volume 12 4 dicembre 1918 per le anime amanti la mia prigionia ha formato la loro prigionia di amore dove esse possono stare al sicuro e difese da tutti e da tutto io le ho scelte per averle come prigioni come tabernacoli viventi che mi devono riscaldare dalle fredezze dei tabernacoli di pietra e molto di più dalle fredezze delle creature che imprigionandomi in loro mi fanno morire di freddo e di fame ecco perché molte volte lascio le prigioni dei tabernacoli e vengo nel tuo cuore per riscaldarmi dal freddo e per ristorarmi con il tuo amore quando ti vedo andare in cerca di me nei tabernacoli delle chiese io ti dico sei tu la mia vera prigione di amore per me cercami nel tuo cuore da mammi Gesù nel tabernacolo soffre nella sua vita sacramentale il tabernacolo vivente che ha in sé Gesù sofferente deve partecipare alle sue sofferenze per ristorarlo Gesù a Luisa il 27 gennaio 1909 dice figlia mia sai chi sei tu Luisa della passione del tabernacolo quando ti partecipo le pene sei del calvario quando non te le partecipo rimani nel tabernacolo e così io nel tabernacolo niente do di esteriore né di croce né di spine eppure l'immolazione è quella dello stesso calvario le preghiere sono le stesse del calvario l'offerta della mia vita continua la mia volontà non è cambiata in alcun che mi brucia la sete della salvezza delle anime posso dire che la mia vita sacramentale è unita con la mia vita mortale queste vite unite in un punto non hanno perso alcun che questo punto è tutto interiore se la tua volontà è la stessa di quando io ti partecipavo le mie pene se le tue offerte sono simili se il tuo interiore è unito con me con la mia volontà non ho ragione di dirti che sei luisa della passione del tabernacolo questa è la sola differenza quando ti partecipo le mie pene prendi parte alla mia vita mortale e io esento il mondo dai più gravi flagelli quando non te le partecipo flagello il mondo e tu prendi parte alla mia vita sacramentale sempre una è la vita il tabernacolo vivente come Gesù deve morire continuamente per ottenere dal padre misericordia per le creature nel sacramento dell'eucaristia là il sacrificio è continuo perpetuo è il forzare il padre affinché usi misericordia alle creature e dalle anime per ottenere l'amore della trinità io mi trovo in continuo contrasto morendo continuamente sebbene tutte le mie morti siano morti di amore volume 4 12 punto 3 punto 1903 l'otto febbraio 1915 volume 11 Gesù dice a Luisa voglio l'eroismo delle anime che dimenticano se stesse hanno cura soltanto di me ed unite con me si occupano della salvezza dei miei figli verso i quali il demonio usa tutte le astuzie per strapparli dalle mie braccia voglio che ti adatti ai diversi momenti ora dolorosi ora luttuosi ora tragici insieme con me prega e piangi per la cecità delle creature la tua vita deve scomparire facendo subentrare in te tutta la mia vita facendo così sentirò in te il profumo della mia divinità mi fiderò di te anche in questi tempi tristi il tabernacolo vivente tramite la sofferenza viene preparato per essere consacrato quale ostia vivente da Gesù ogni volta che la creatura farà scorrere i suoi desideri tutto ciò che vuol fare cioè la sua volontà umana nella volontà divina Gesù rinnoverà in lei la consacrazione ad ostia vivente continuerà a vivere in lei la sua vita divina punto l apostrofo anima deve fare sue la volontà le preghiere l'amore le riparazioni i sacrifici di Gesù per ridonarli a lui come cibo del quale egli vuole essere nutrito volume 6 17 novembre 1904 figlia mia come come mi faccio cibo per la creatura così la creatura può farsi mio cibo convertendo tutto il suo interiore in mio alimento cioè i pensieri gli affetti i desideri le inclinazioni i palpiti i sospiri l'amore tutto tutto dovrebbe tendere a me io vedendo il vero frutto del mio cibo che è il divinezzare l'anima ed il convertirla tutta in me mi ciberò dell'anima cioè dei suoi desideri del suo amore e di tutto il resto allora l'anima potrebbe dirmi come tu sei giunto a farti cibo mio e da darmi tutto anche io mi sono fatta cibo tuo non mi resta altro da darti poiché tutto ciò che sono è tuo l'anima che fa sua la divina volontà è un'ostia vivente volume 11 17 dicembre 1914 figlia mia anche tu puoi formare l'ostia e misticamente consacrarla vedi la veste che mi copre nel sacramento sono le proprietà del pane con le quali viene formata l'ostia la vita che esiste nell'ostia è il mio corpo è il mio sangue è la mia , divinità la disposizione che fa contenere nell'ostia questa vita ed è la mia suprema volontà questa volontà sviluppa l'amore la riparazione l'immolazione tutto il resto che faccio nel sacramento tutto ciò mai si allontana minimamente dal mio volere non c'è cosa che esca da me che il mio volere non abbia determinato ecco come anche tu puoi formare l'ostia l'ostia è materiale e del tutto umana anche tu hai un corpo materiale ed una volontà umana questo tuo corpo e questa tua volontà se li manterrai puri retti lontani da qualunque ombra di peccato sono le proprietà ed i velli con i quali posso consacrarmi e vivere nascosto in te ciò non basta poiché sarebbe come avere l'ostia senza la consacrazione ci vuole la mia vita la mia vita è composta di santità di amore di sapienza di potenza eccetera ma il motore di tutto è la mia volontà quindi dopo che hai preparato l'ostia devi fare morire la tua volontà nell'ostia e devi fare subentrare in tutto l'essere tuo la mia volontà la mia volontà che contiene tutta la mia vita formerà la vera e perfetta consacrazione allora non avrà più vita l'umano la debolezza l'incostanza poiché la mia volontà formerà la consacrazione della vita divina della fortezza della fermezza e di tutto ciò che io sono ogni qual volta farai scorrere la tua volontà nella mia cioè i tuoi desideri tutto ciò che sei e vuoi fare io rinnoverò la consacrazione allora in te quale ostia vivente non morta quali sono le ostie senza di me io continuerò la mia vita soltanto nelle ostie viventi Gesù viene sollevato dalla solitudine che è costretto a vivere nei tabernacoli nelle ostie consacrate nell'epissidi nei tabernacoli tutto è morto muto poiché non vi è sensibilmente un palpito uno slancio di amore che possa rispondere a tanto mio amore se non fosse che io aspetto i cuori per darmi a loro sarei molto infelice resterei defraudato nel mio amore e sarebbe senza scopo la mia vita sacramentale se ciò tollero nei tabernacoli non lo tollero nelle ostie viventi io nel sacramento voglio essere nutrito del mio stesso cibo cioè l'anima fa sua e la mia volontà il mio amore le mie preghiere le mie riparazioni i miei sacrifici e lì dà a me come cose sue di ciò io mi nutro l'anima si unisce con me tende le sue orecchie per sentire ciò che sto facendo per farlo insieme con me mentre replica i miei stessi atti mi dà il suo cibo di ciò io sono felice soltanto nelle ostie viventi trovo la ricompensa per la solitudine per il digiuno e per ciò che soffro nei tabernacoli l'amore della creatura il palpito del suo cuore è la particola dove Gesù prenderà vita e la creatura sarà così ostia vivente Gesù infatti consacra l'amore dell'uomo tramite l'amore divino che è sviluppato dalla divina volontà l'amore dell'uomo è perciò l'ostia vivente ed è consacrato tale dalla divina volontà a luisa che si lamenta perché il suo bene tarda a presentarsi a lei Gesù dice il tuo corpo è il mio tabernacolo la tua anima è la pisside che mi contiene il palpito del tuo cuore è come particola che mi consente di trasformarmi in te come dentro una particola la differenza è che mentre nella particola che si consuma sono soggetto a continui morti nel palpito del tuo cuore che simboleggia il tuo amore e non è soggetto a consumarsi la mia vita è continua allora perché tanto ti affliggi per le mie privazioni l'ostia vivente è per gesù più e più privilegiata della stessa ostia consacrata perché in questi cieli del suo volere quali sono le ostie viventi la vita della sua volontà non finisce mai mentre nell'ostia consacrata consumandosi le specie la sua vita sacramentale finisce volume 11 3 marzo 1912 figlia mia chi fa la mia volontà perde il suo temperamento e prende il mio punto queste sono le anime alle quali vado ripetendo se non avessi creato il cielo per te sola lo creerei dato che distendo il cielo del mio volere in loro e faccio le mie vere immagini in questi cieli io vado spaziando divertendo omi e scherzando con loro a questi cieli io ripeto se non mi fossi lasciato nel sacramento per voi sole mi sarei lasciato poiché esse sono le mie vere ostie ed io come non potrei vivere senza un volere così non posso vivere senza questi cieli della mia volontà anzi non solo sono le mie vere ostie ma lo scopo del mio calvario e della mia stessa vita questi cieli del mio volere sono per me più cari e più privilegiati dei tabernacoli e delle stesse ostie consacrate poiché nell'ostia consumandosi le specie la mia vita sacramentale finisce invece in questi cieli del mio volere la vita della mia volontà non finisce mai mi servono come ostie in terra e saranno le mie ostie eterne in cielo come Gesù si è fatto ostia per amore così ogni atto fatto per amore dalla creatura nella divina volontà forma un'ostia di cui Gesù si ciba come l'anima si ciba di lui il 20 ottobre 1917 Gesù spiega a Luisa figlia mia se non puoi restringere tutta te dentro il breve giro di un'ostia per amore mio puoi restringere benissimo tutta te nella mia volontà per poter formare l'ostia di te nella mia volontà ogni atto che farai nella mia volontà farà un'ostia ed io mi ciberò di te come tu di me che cosa forma l'ostia la mia vita in essa la mia volontà è tutta la mia vita allora anche tu puoi farti ostia per amore mio quanti più atti farai nella mia volontà tante più ostie farai per rendermi amore per amore volume 12 6 febbraio 1919 figlia mia quando l'anima racchiude il mio volere e mi ama nel mio volere racchiude me allora l'anima amandomi realizza intorno a me gli avvenimenti per imprigionarmi e forma un'ostia per me così quando l'anima soffre quando l'anima ripara ecc racchiudendo il mio volere l'anima forma tante ostie per comunicare me e per sfamarsi in modo divino e degno di me io appena vedo formate queste ostie nell'anima vado a prenderle per nutrirmi e per saziare l'insaziabile mia fame della creatura che mi rende amore per amore tu puoi dirmi tu hai comunicato me anche ho comunicato te l'anima che vive nel divino volere resta consacrata con Gesù in tutte le ostie di tutte le messe essendo un altro Gesù in Gesù quindi Gesù consacra l'anima ciò che Gesù fa con l'ostia lo fa con l'anima rendendo la ostia vivente e rendendola in tal modo altro Cristo le dà la possibilità di consacrare altre ostie che sono gli stessi atti che lei compie nella divina volontà volume 12 27 marzo 1918 figlia mia chi realizza il sacrificio sono io l'anima che vive con me nel mio volere quando io mi trasformo in ogni sacrificio resta come sacrificata insieme con me non in una data messa ma in tutte le messe ella vivendo nel mio volere resta con me consacrata in tutte le ostie non uscire mai dal mio volere ed io ti farò giungere dove vuoi anzi tra te e me passerà tale elettricità di comunicazione che tu non farai alcun atto senza di me ed io non farò alcun atto senza di te perciò quando ti manca qualche cosa entra nella mia volontà e troverai pronto ciò che vuoi quante messe vuoi quanto amore vuoi nella mia volontà nulla manca e troverai le cose in modo divino ed infinito l'8 aprile 1908 Gesù precisa figlia mia è cosa grande fare la comunione ma quanto dura l'unione stretta con l'anima al più un quarto d'ora ma la cosa che ti stia più a cuore è la completa disfatta della tua volontà nella mia perché per chi vive nella volontà mia non è solo un quarto d'ora l'unione stretta ma sempre sempre sicché la mia volontà è continua comunione con l'anima onde non una volta al giorno ma in tutte le ore e in momenti è sempre comunione per chi fa la mia volontà e il 23 marzo 1910 ti raccomando non uscire da dentro della mia volontà perché la mia volontà contiene tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima anzi più dello stesso battesimo perché nei sacramenti c'è parte della mia grazia nella mia volontà c'è tutta la pienezza della grazia nel battesimo si toglie la macchia del peccato originale ma rimangono le passioni le debolezze nella mia volontà distruggendo l'anima il proprio volere distrugge le passioni le debolezze e tutto ciò che è umano e vive delle virtù della fortezza e di tutte le qualità divine io nel sentire ciò dicevo tra me afferma luisa da qui a poco dirà che la sua volontà è più della stessa comunione sacramentale e lui ha soggiunto certo certo perché la comunione sacramentale dura pochi minuti la mia volontà è comunione perenne anzi eternale che si eterna nel cielo la comunione sacramentale è soggetta a qualche intoppo o per malattia o per necessità o da parte di chi la deve amministrare mentre la comunione della mia volontà non è soggetta ad alcun impiccio solo che l'anima la vuole tutto è fatto nessuno può impedirle un sì gran bene che forma la felicità della terra e del cielo né i demoni né le creature né la mia stessa onnipotenza l'anima è libera nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà perciò io la insinuo voglio tanto che la prendano la mia volontà le mie creature è la cosa che più mi importa che più mi sta a cuore tutte le altre cose non mi interessano ugualmente anche più sante e quando ottengo che l'anima viva della mia volontà me ne vado trionfante perché in ciò si racchiude il più gran bene che ci può essere in cielo e in terra volume 11 15 marzo 1912 figlia mia la mia volontà è la santità della santità sì che l'anima che fa la mia volontà secondo la perfezione che io ti insegno cioè come in cielo così in terra per quanto fosse piccola ignorante ignorata si lascia dietro anche altri santi adonta dei loro portenti delle conversioni più strepitose dei miracoli anzi confrontando le anime che fanno la mia volontà qual è nel mio terzo fiat sono regine e tutte le altre come se stessero a loro servizio l'anima che fa la mia volontà pare che fa niente e fa tutto perché stando nella mia volontà queste anime agiscono alla divina nascostamente di modo sorprendente sì che sono luce che illumina sono venti che purificano sono fuoco che brucia sono miracoli che fanno fare miracoli quelli che li fanno sono i canali in queste anime invece ne risiede la potenza sicché sono il piede del missionario la lingua dei predicatori la forza dei deboli la pazienza degli infermi il regime dei superiori l'ubidienza dei sudditi la tolleranza dei calognati la fermezza nei pericoli l'eroismo degli eroi il coraggio dei martiri la santità dei santi e così di tutto il resto perché stando nella mia volontà vi concorrono a tutto il bene che ci può essere e in cielo e in terra ecco come posso dire bene che sono le mie vere ostie ma ostie vive non morte perché gli accidenti che formano l'ostia non sono pieni di vita né influiscono nella mia vita ma l'anima che sta nella mia divina volontà è piena di vita e facendo la mia volontà influisce e concorre a tutto ciò che faccio io ecco perché mi sono più queste ostie consacrate dalla mia volontà che le stesse ostie sacramentali e se ho ragione di esistere nelle ostie sacramentali e per mia volontà figlia mia è tanto il piacere che prendo della mia volontà che al solo sentirne parlare nel gongolo di gioia e chiamo tutto il cielo a farne festa immagina tu stessa che sarà di quelle anime che la fanno io trovo tutti contenti in loro e do tutti contenti a loro la vita loro è la vita dei beati due sole cose stanno loro a cuore desiderano agognano la volontà mia e l'amore poco altro hanno da fare mentre fanno tutto le stesse virture stanno assorbite nella mia volontà e nell'amore sicché non hanno più a che fare con loro perché la mia volontà contiene possiede assorbe tutto ma in modo divino immenso ed interminabile questa è la vita dei beati quando un'anima decide di vivere nel mio volere la mia volontà crea me stesso in quell'anima ed appena il mio volere scorre nella volontà nelle opere nei passi dell'anima e la tante mie creazioni subisce succede proprio come per una pisside piena di particole consacrate quante particole ci sono tanti Gesù ci sono uno in ciascuna particola così l'anima in virtù della mia volontà mi contiene totalmente ed in ciascuna parte del suo essere chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale comunione con frutto completo 20 agosto 1913 volume 11 il fiumicello di tutti i tuoi atti fatti nel mio volere dice Gesù a Luisa il 6 ottobre 1922 volume 14 voglio che scorra nel mare immenso del mio volere scorra ogni tuo pensiero in esso affinché ai riflessi della nostra intelligenza che è pensiero di ciascuno si elevi su ciascuna intelligenza e ci dia l'omaggio di ciascun pensiero in modo divino le tue parole ed opere scorrano pure affinché al riflesso della nostra parola fiat che fece tutte le cose ed è parola di ciascuno e ai riflessi della santità delle nostre opere che è vita e moto di tutto cidiano elevandosi e sorvolando su tutto la gloria ad ogni parola e di ogni opera con la nostra stessa parola fiat e con la stessa santità delle nostre opere figlia mia se tutto ciò che è umano sia anche un pensiero non viene fatto nel mio volere il piano umano non prende possesso ed il fiumicello non viene formato ed il mio volere non può scendere sulla terra per farsi conoscere e regnare ondio nel sentir ciò continua luisa gli ho detto amore mio gesù possibile che dopo tanti secoli di vita della chiesa che ha messo fuori tanti santi e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra delle loro virtù e delle meraviglie che hanno operato non dovevano questi operare tutto nel divin volere in modo da formare questo piano che tu dici stavi aspettando proprio me la più inabile la più cattivella ed ignorante per far ciò pare proprio incredibile e gesù senti figlia mia la mia sapienza tiene mezzi e vie che l'uomo ignora che è obbligato a piegare la fronte ed adorarla in muto silenzio e non sta a lui dettarmi leggi chi debbo scegliere ed il tempo opportuno che la mia bontà dispone e poi dovevo prima formare i santi che dovevano rassomigliarmi e copiare in modo più perfetto per quanto a loro è possibile la mia umanità e questo l'ho già fatto ora ora la mia bontà vuole passare oltre e vuole dare in eccessi più grandi d'amore e perciò voglio che le creature entrino nell'umanità mia che copino ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà se i primi hanno cooperato alla mia redenzione di salvare le anime di insegnare la legge di sbandire la colpa limitandosi nei secoli in cui sono vissuti i secondi passeranno oltre copiando ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà abbracceranno tutti i secoli tutte le creature ed elevandosi su tutti metteranno in vigore i diritti della creazione che spettano a me e che riguardano le creature portando tutte le cose alla prima origine della creazione dallo scopo per cui la creazione uscì tutto è ordinato in me se la creazione la misi fuori deve ritornarmi ordinata come uscì dalle mie mani già il primo piano degli atti umani cambiati indivini nel mio volere fu fatto da me e lo lasciai come sospeso e la creatura nulla seppe meno che la mia ed indivisibile mamma ed era necessario se l'uomo non sapeva la via la porta le stanze della mia umanità come avrebbe potuto entrarvi dentro e copiare ciò che io facevo ora il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio che meraviglia che ho chiamata te per prima e poi è tanto vero che ho chiamato te per prima che ha nessun'altra anima per quanto a me virgola ho manifestato il modo di vivere nel mio volere gli effetti di esso le meraviglie ed i beni che riceve la creatura operante nel voler supremo riscontra quante vite di santi vuoi o libri di dottrine in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio al più troverai la rassegnazione l'unione dei voleri ma il voler divino operante in essa ed essa nel mio in nessuno lo troverai ciò significa che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro perciò si attenta la mia giustizia lo esige il mio amore delira perciò la mia sapienza dispone tutto per ottenere l'intento sono i diritti la gloria della creazione che vogliamo da te l'otto marzo 1914 volume 11 Gesù consola Luisa ammalata manifestando le altre verità sulla sua divina volontà figlia mia l'anima che sta nella mia volontà può dire di tutto ciò che faccio tutto questo è mio e ciò perché la volontà dell'anima che a me sia data sta tanto immedesimata con la mia che tutto ciò che fa la mia volontà lo fa lei sì che vivendo e morendo nel mio volere non c'è bene che con sé non si porti perché non c'è bene che la mia volontà non contenga e di tutti i beni che si fanno dalle creature la mia volontà è la vita onde morendo a questa vita l'anima nella mia volontà si porta con sé le messe che si celebrano e le preghiere le opere buone che si fanno perché tutte sono frutti della mia volontà e ciò è molto meno a confronto dell'operato stesso della mia volontà che l'anima con sé si porta come suo basto a un istante dell'operato della mia volontà per sorpassare tutto l'operato di tutte le creature passate presenti e future sicché l'anima morendo nella mia volontà non c'è bellezza che la pareggi né altezza né ricchezza né santità né sapienza né amore nulla nulla le si può paragonare nulla la eguaglia sicché l'anima che muore immedesimata nella mia volontà nell'ingresso che farà nella patria celeste non si apriranno le sole porte del cielo ma tutto il cielo si abbasserà per farla entrare nel celeste soggiorno per fare onore all'operato della mia volontà che è in essa che dirti poi della festa è sorpresa di tutti i beati nel vedere quest'anima tutta improntata dell'operato della volontà divina nel vedere in quest'anima che tutto ha fatto nel mio volere che tutto ciò che ha fatto in vita ogni suo detto ogni pensiero opera azione eccetera sono tanti soli che la adornano e uno diverso dall'altro nella luce e nella bellezza nel vedere in quest'anima i tanti rivoli divini che inonderanno tutti i beati che non potendo contenerli il cielo scorreranno anche in terra a bene dei viatori ah figlia mia la mia volontà è il portento dei portenti è il segreto per trovare la luce la santità le ricchezze è il segreto di tutti i beni non conosciuto intimamente quindi non apprezzato né amato come si merita tu apprezzalo ed amalo e fallo conoscere a quanti ne vedi disposti un altro giorno continua Luisa stando soffrendo mi sentivo di non poter far nulla onde mi sentivo oppressa e Gesù stringendomi tutta mi disse figlia mia non affannarti cerca solo di stare abbandonata nella mia volontà ed io farò tutto per te perché è più un solo istante nella mia volontà che tutto ciò che potresti fare di bene in tutta la tua vita stavo pensando al santo volere divino scrive Luisa l'11 gennaio 1922 volume 13 e dicevo tra me tutti i figli della chiesa sono membra del corpo mistico di cui Gesù è il capo quale sarà il posto che occuperanno le anime che hanno la volontà di Dio in questo corpo mistico il mio sempre benigno Gesù nel venire mi ha detto figlia mia la chiesa è il mio corpo mistico di cui io mi glorie di essere il capo ma per poter entrare in questo corpo mistico le membra devono crescere a debita statura altrimenti deformerebbero il mio corpo ma hai quanti non solo non hanno la dovuta proporzione ma sono marciosi piagati tanto che fanno schifo al mio capo e alle altre membra sane ora le anime che vivono nel mio volere o vivranno saranno al corpo della mia chiesa come la pelle al corpo il corpo ha pelle interna e pelle esterna e siccome nella pelle c'è la circolazione del sangue che dà vita a tutto il corpo in virtù di questa circolazione le membra vi giungono a debita statura se non fosse per la pelle e per la circolazione del sangue il corpo umano sarebbe orribile a vedersi e le membra non crescerebbero a debita statura ora vedi come mi sono necessarie queste anime che vivono nel mio volere avendole destinate come pelle al corpo della mia chiesa e come circolazione di vita per tutte le membra saranno esse che daranno la crescenza dovuta alle membra non cresciute che saneranno le membra piagate che col continuo vivere nel mio volere restituiranno la freschezza la bellezza lo splendore a tutto il corpo mistico facendolo tutto simile al mio capo che siederà con tutta maestà su tutte queste membra ecco perché non potrà venire la fine dei giorni se non ho queste anime che vivono come sperdute nel mio volere esse mi interessano più che tutto quale figura farebbe questo corpo mistico nella celeste gerusalemme senza di esse e se questo interessa più di tutto me deve interessare più di tutto anche te se mi ami ed io d'ora in poi darò a tutti i tuoi atti fatti nel mio volere virtù di circolazione di vita per tutto il corpo mistico della chiesa come circolazioni di sangue nel corpo umano i tuoi atti estesi nell'immensità del mio volere si estenderanno su tutti e copriranno come pelle queste membra dando loro la debita crescenza perciò si attente e fedele onde dopo continua luisa stavo pregando tutta abbandonata nel volere di gesù e ho detto amor mio tutto nel tuo volere le mie piccole pene le mie preghiere il mio palpito il mio respiro tutto ciò che sono e posso unito a tutto ciò che sei tu per dare la debita crescenza alle membra del corpo mistico i tre fiat creante redimente santificante figlia 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 letta mia ha tanto dolore che le creature mi danno in questi tristi tempi tanto da farmi piangere ed essendo pianto di dio si ripercuote in cielo e terra subentrerà un sorriso che riempirà di allegrezza cielo e terra e questo sorriso spunterà sul mio labbro quando vedrò le primizie le figlie del mio volere vivere non nell'ambiente umano ma nell'ambiente divino le vedrò improntate tutte nel volere eterno immenso infinito vedrò quel punto eterno che abita solo in cielo scorrere sulla terra e modellare le anime coi suoi principi infiniti con l'agire divino con la moltiplicazione degli atti in un solo atto e come la creazione deriva dal fiat così nel fiat sarà completata sicché solo le figlie del mio volere nel fiat completeranno tutto e nel fiat mio che prenderà vita in loro avrò amore gloria riparazione ringraziamenti eccetera completi per tutto e per tutti figlia figlia le cose da dove escono la ritornano tutto uscì dal fiat e nel fiat verrà tutto a me saranno poche ma nel fiat tutto mi daranno 7 gennaio 1921 volume 12 il primo sì nel mio fiat l'ho chiesto alla mia mamma i do potenza del suo fiat nel mio volere non appena il fiat divino si incontrò col fiat della mia mamma se ne fece uno solo il mio fiat la innalzò la divinezzò la adombrò e senza opera umana concepì me figlio di dio non appena disse fiat mi non solo si impossessò di me ma adombrò tutte le creature tutte le cose create sentiva tutte le vite delle creature in sé ed allora cominciò a fare da madre e da regina di tutti quanti portenti contiene questo sì della mia mamma se li volessi dire tutti non finiresti mai di sentirli ora un secondo sì nel mio volere l'ho chiesto a te a luisa piccarreta e tu sebbene tremante lo pronunciasti ora questo sì nel mio volere avrà dei portenti avrà un compimento divino tu seguimi e sprofondati nel mare immenso della mia volontà ed io penserò a tutto la mia mamma non pensò come avrei fatto a concepirmi lei ma disse solo fiat mi ed io pensai al modo come concepirmi così farai tu 10 gennaio 1921 volume 12 17 gennaio 1921 volume 12 il fiat è tutto pieno di vita anzi è la stessa vita e perciò dall'interno del fiat escono tutte le vite e tutte le cose dal mio fiat uscì la creazione perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del fiat dal fiat mi della mia mamma detto nel mio volere che ebbe la stessa potenza del mio fiat uscì la redenzione sì che non c'è cosa nella redenzione che non contenga l'impronta del fiat mi della mia mamma anche la mia stessa umanità i miei passi le opere le parole sono suggellate dal fiat mi di lei le mie pene le piaghe le spine la croce il sangue portano l'impronta del suo fiat mi perché le cose portano l'impronta dell'origine da cui sono uscite la mia origine nel tempo fu dal fiat dell'immacolata mamma perciò tutto il mio operato porta il segno del suo fiat mi sicché in ogni ostia sacramentale c'è il suo fiat mi se l'uomo sorge dalla colpa se il neonato è battezzato se il cielo si apre per ricevere anime è il fiat mi della mia mamma che segna che segue e provvede a tutto o potenza del fiat lui sorge ad ogni istante si moltiplica e si fa vita di tutti i beni ora voglio dirti perché ho chiesto il tuo fiat il tuo sì nel mio volere la mia preghiera insegnata il fiat voluntas tua sic cutinco elo et in terra questa preghiera di tanti secoli di tante generazioni voglio che abbia il suo esaudimento e compimento ecco perché volevo un altro sì nel mio volere un altro fiat contenente la potenza creatrice voglio il fiat che sorge ad ogni istante che si moltiplica tutti voglio in un'anima il mio stesso fiat che sale al mio trono e con la sua potenza creatrice porta in terra la vita del fiat come in cielo così in terra punto il primo fiat fu detto nella creazione senza intervento di alcuna creatura e scelsi la mia mamma come compimento del secondo fiat ora a compimento voglio il terzo fiat che farà completare la gloria l'onore del fiat della creazione e sarà conferma e sviluppo dei frutti del fiat della redenzione questi tre fiat adombreranno la sacro santa trinità sulla terra ed avrò il fiat voluntas tua come in cielo così in terra questi tre fiat saranno inseparabili l'uno sarà vita dell'altro saranno uno e trino ma distinti tra loro il mio amore lo vuole la mia gloria lo esige che avendo sprigionato dal seno della mia potenza creatrice i primi due fiat vuole sprigionare il terzo non potendo più contenere il mio amore e questo è per completare l'opera da me uscita altrimenti l'opera della creazione e della redenzione sarebbe incompleta volume 12 24 gennaio 1921 nel mio volere c'è la forza creatrice da un solo fiat uscirono miliardi e miliardi di stelle dal fiat mi della mia mamma da cui la redenzione ebbe origine escono miliardi e miliardi di atti di grazia che si comunicano alle anime questi atti di grazia sono più belli più risplendenti più multiformi delle stelle e mentre le stelle sono fisse e non si moltiplicano gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito in ogni istante corrono allettano le creature le felicitano e danno loro vita a se le creature potessero vedere il soprannaturale della grazia sentirebbero tali armonie vedrebbero tale spettacolo incantevole da credere che sia il loro paradiso ora anche il terzo fiat deve correre insieme con gli altri due fiat deve moltiplicarsi all'infinito ed in ogni istante deve dare tanti atti per quanti atti di grazia si sprigionano dal mio seno per quante stelle per quante gocce d'acqua e per quante cose create sprigionò il fiat della creazione deve confondersi insieme e dire quanti atti siete voi tanti ne faccio io questi tre fiat hanno lo stesso valore e potere tu scomparisci è il fiat che agisce e perciò anche tu nel mio fiat onnipotente puoi dire voglio creare tanto amore tante adorazioni tante benedizioni tanta gloria al mio dio per supplire a tutti e a tutto i tuoi atti riempiranno cielo e terra si moltiplicheranno con gli atti della creazione e redenzione e se ne farà uno solo parrà sorprendente a taluni tutto ciò ed allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice e poi quando sono io che voglio che do questo potere ogni dubbio cessa non sono forse libero di fare ciò che voglio e di dare a chi voglio tu stessa si attenta io starò con te ti adombrerò con la mia forza creatrice e compirò ciò che voglio su di te 2 febbraio 1921 volume 12 8 febbraio 1921 volume 12 la creatura imperversa sempre di più nel male dice Gesù a Luisa quante macchine di rovina stanno preparando giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male ma mentre essi si occuperanno nel far la loro via io mi occuperò che il mio fiat volunca stua abbia compimento ed esaudimento che la mia volontà regni sulla terra ma in modo tutto nuovo mi occuperò a preparare l'era del terzo fiat in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso ed inaudito ah sì voglio confondere l'uomo tutto in amore perciò si attenta ti voglio con me a preparare questa era di amore celeste e divina ed opereremo insieme 22 febbraio 1921 volume 12 punto il mio solito dopo di aver parlato di fare silenzio voglio riposarmi nella mia stessa opera uscita da me e questo lo feci nella mia creazione dopo detto fiat lux e la luce fu fiat a tutte le altre cose e le cose uscirono a vita vogli riposare e la mia luce eterna riposò nella luce uscita nel tempo il mio amore riposò nell'amore con cui investì tutto il creato la mia bellezza riposò nell'universo tutto mi temprai della mia stessa bellezza come pure riposò la mia sapienza e potenza in cui ordinai tutto con tale sapienza e potenza che io stesso guardando dissi come è bella l'opera da me uscita voglio riposarmi in lei così faccio per le anime dopo aver parlato voglio riposarmi e godere gli effetti della mia parola dopo ciò ha soggiunto scrive Luisa Piccarreta riferendosi a Gesù diciamo insieme un Fiat e tutto cielo e terra si riempiva dell'adorazione alla maestà suprema e di nuovo ha ripetuto Fiat ed il sangue le piaghe le pene di Gesù sorgevano si moltiplicavano all'infinito e poi una terza volta Fiat e questo Fiat si moltiplicava in tutte le volontà delle creature per santificarle poi mi ha detto figlia mia questi tre Fiat sono il creante il redimente il santificante nel creare l'uomo lo dotai di tre potenze intelletto memoria e volontà e con tre Fiat compirò l'opera di santificazione sull'uomo nel Fiat creante l'intelletto dell'uomo resta come rapito tante cose l'uomo comprende di me e quanto io lo ami essendo io nascosto in tutte le cose create ciò per farmi conoscere e per dargli amore per farmi amare nel Fiat della redenzione la memoria dell'uomo resta come incantata dagli eccessi del mio amore nel patire ciò per aiutare e per salvare l'uomo nello stato di colpa nel terzo Fiat il mio amore vuole manifestarsi di più io voglio assistere la volontà umana voglio mettere a sostegno della volontà dell'uomo la mia stessa volontà in modo che la volontà umana resti non solo rapita e incatenata ma anche sostenuta da una volontà eterna l'uomo essendo così sostenuto in tutto alla volontà eterna quasi non potrà sfuggire non finiranno le generazioni prima che la mia volontà regni sulla terra il mio Fiat redimente si metterà in mezzo tra il Fiat creante ed il Fiat santificante si uniranno i tre insieme e compiranno la santificazione dell'uomo il terzo Fiat darà tale grazia alla creatura da farla tornare quasi allo stato di origine quando avrò visto l'uomo così come da me fu creato la mia opera sarà completa ed io avrò il mio perpetuo riposo nell'ultimo Fiat soltanto la vita nel mio volere ridonerà all'uomo lo stato di origine 2 marzo 1921 volume 12 punto il terzo Fiat il mio Fiat voluntas tua come in cielo così in terra sarà come l'arcobaleno che si vide in cielo dopo il diluvio e che come iride di pace assicurò gli uomini che il diluvio era cessato così sarà per il terzo Fiat quando sarà conosciuto anime amanti e disinteressate verranno a vivere nel mio Fiat queste anime saranno come arcobaleni che quali iridi di pace rappacificheranno il cielo con la terra e manderanno via il diluvio di tante colpe che inonda la terra queste ridi di pace avranno per vita il terzo Fiat così il mio Fiat Voluntas Tu avrà compimento in loro come il secondo Fiat mi chiamò sulla terra a vivere in mezzo agli uomini così il terzo Fiat chiamerà la mia volontà nelle anime a regnarvi come in cielo così in terra figlia mia continua ancora Gesù a Luisa viene nella mia volontà voglio che tu insieme con me nel mio volere ti dedichi a preparare l'era della mia volontà quando ti inoltrerai nella via del mio volere si formerà l'iride di pace che a sua volta formerà l'anello di congiunzione tra la volontà divina e quella umana da ciò avrà vita la mia volontà sulla terra ed avrà origine l'esaudimento della preghiera mia e di tutta la chiesa venga il regno tuo e sia fatta la volontà tua come in cielo così in terra l'esaudito scritti sulla divina volontà la gira di dio il 19 maggio 1938 volume 36 luisa scrive pensavo al grande sacrificio di scrivere alle mie ripugnanze alle lotte che ho subito per mettere la penna sulla carta che solo il pensiero di dispiacere il mio caro Gesù mi faceva fare il sacrificio di ubbidire a chi mi comandava di farlo dicevo tra me chissà come andrà a finire in quali mani potranno andare chissà quanti cavilli quante opposizioni faranno quanti dubbi e mi sentivo irrequieta la mia mente era funestata da tale apprensione che mi sentivo morire ma Gesù la tranquillizza figlia mia non ti torbare questi scritti sono i miei non tuoi nelle mani di chi potranno andare nessuno potrà toccarli per sciuparli io li saprò custodire e difendere perché è roba che mi appartiene e chiunque li prenderà con buona e retta volontà troverà una catena di luce e di amore con cui amo le creature questi scritti li posso chiamare lo sfogo del mio amore follie deliri eccessi del mio amore con cui voglio vincere le creature affinché ritornino nelle mie braccia per far loro sentire quanto le amo e per far maggiormente loro conoscere quanto le amo voglio giungere all'eccesso di dar loro il gran dono della mia volontà come vita perché solo con essa l'uomo potrà mettersi al sicuro e sentire le fiamme del mio amore le mie ansie di quanto lo amo sicché chi leggerà questi scritti con l'intenzione di trovare la verità sentirà le mie fiamme e si sentirà trasformato in amore e mi amerà di più chi poi li leggerà per trovare cavilli e dubbi la sua intelligenza resterà accecata e confusa dalla mia luce e dal mio amore figli miei il bene che le mie verità producono a due effetti uno contrario all'altro ai disposti è luce per formare l'occhio nella loro intelligenza e vita per dar vita di santità che le mie verità racchiudono gli indisposti invece li acceca e li priva del bene che le mie verità racchiudono poi ha soggiunto figlia mia fatti coraggio non volerti turbare ciò che ha fatto il tuo Gesù era necessario al mio amore e dall'importanza di ciò che ti dovevo manifestare sulla mia divina volontà posso dire che doveva servire alla mia stessa vita e da farmi compiere l'opera della creazione perciò era necessario che al principio di questo tuo stato usassi con te tanti stratagemmi d'amore cercassi tante intimità con te a dell'incredibile come io giunsi a tanto ti feci pure tanto soffrire per vedere se tu ti sottoponevi a tutto poi ti affogavo con le mie grazie col mio amore e ti sottoponevo di nuovo alle pene per essere sicuro che tu non mi avresti negato nulla e questo per vincere la tua volontà tutto ciò che ho fatto al principio di questo tuo stato era necessario e doveva servire come fondo come decoro preparazione santità e disposizione alla grande verità che ti dovevo manifestare sulla mia divina volontà perciò degli scritti avrò più interesse io che tu perché sono i miei ed una sola verità sul mio fiat mi costa tanto che supera il valore di tutta la creazione e opera mia invece la mia verità è vita mia è vita che voglio dare alle creature e lo puoi comprendere da ciò che ha il sofferto e dalle grazie che ti ho fatto per giungere a manifestarti le mie verità sul mio santo volere perciò quietati ed amiamoci figlia mia non spezziamo il nostro amore perché ci costa assai a tutti e due tu col tenere la tua vita sacrificata a mia disposizione ed io col sacrificarmi per te luisa piccarrezza riflettendo tra sé su questi fatti il 24 gennaio 1921 volume 12 scrive punto possibile tutto questo ce ne sono tante e se è vero che ha scelto me mi sembra che sia una delle solite pazzie di Gesù e poi che cosa potrei fare e dire dentro di un letto mezzo storpiata di netta qual sono potrei io far fronte alla molteplicità ed infinità del fiat della creazione e della redenzione essendo il mio fiat simile agli altri due fiat io devo correre insieme con loro fare il bene che fanno loro intrecciarmi con loro Gesù pensa a ciò che fai io non sono da tanto e il 24 gennaio 1921 volume 12 punto figlia mia calmati io scelgo chi mi piace sappi che tutte le mie opere cominciano tra me ed una sola creatura poi esse vengono diffuse infatti chi fu il primo spettatore del fiat della mia creazione adamo e poi eva non fu certamente una moltitudine di gente dopo anni ed anni sono stati spettatori turbe e moltitudini di popoli nel secondo fiat fu spettatrice soltanto la mia mamma neppure san giuseppe seppe qualcosa la mia mamma si trovava più o meno nelle tue condizioni era tanta la grandezza della forza creatrice dell'opera mia che sentiva in sé che confusa non sentiva la forza di farne parola ad alcuno e se poi san giuseppe lo seppe fu io che glielo manifestai onde nel suo senno virginale come seme germogliò questo fiat si formò la spiga per moltiplicare il seme poi la spiga uscì alla luce del giorno chi furono gli spettatori pochissimi nella stanza di nazareth i soli spettatori furono la mia mamma e san giuseppe quando la mia umanità crebbe uscì e mi feci conoscere ma non a tutti poi il secondo fiat si diffuse di più e si diffonderà ancora così sarà per il terzo fiat germoglierà in te e si formerà la spiga fiat sacerdote il sacerdote soltanto ne avrà conoscenza poi poche anime poi si diffonderà si diffonderà e farà lo stesso percorso dei fiat della creazione e della redenzione quanto più ti senti schiacciata tanto più cresce in te e si feconda la spiga del terzo fiat perciò sii attente e fedele è mio solito scegliere le anime più abiette inabili e povere per le mie opere più grandi la mia stessa mamma nulla aveva di straordinario nella sua vita esteriore nessun miracolo nessun segno aveva che la facesse distinguere dalle altre donne il suo solo distintivo era la perfetta virtù cui quasi nessuno faceva attenzione e se agli altri santi ho dato il distintivo del miracolo ed altri li ho freggiati con le mie piaghe alla mia mamma nulla nulla eppure era il portento dei portenti il miracolo dei miracoli la vera e perfetta crocifissa nessun altra simile a lei così faccio io quanto più grande è l'opera che voglio fare tanto più scelgo anime abbiette povere ignoranti senza nessuna esseriorità il loro stato abbietto serve come sicura custodia dell'opera mia i ladri della propria stima e dell'amor proprio non faranno loro attenzione conoscendo la loro inabilità e l'anima umile e tremante disimpegnerà l'ufficio da me affidato conoscendo che non essa ma io ho fatto tutto il lei 17 gennaio 1921 volume 12 non lasciamo che per altro tempo ancora rimanga senza risposta divina d'amore questa storia d'amore del nostro creatore ma moltiplichiamo subito per lui all'infinito nella sua volontà divina il nostro ti amo nel suo ti amo 4 febbraio 1922 volume 14 figlia mia voglio refrigerio alle mie fiamme voglio sfogare il mio amore ma il mio amore è spinto dalle creature tu devi sapere che io nel creare l'uomo misi fuori da dentro la mia divinità una quantità d'amore che doveva servire come vita primaria delle creature per arricchirle per sostenerle per fortificarle e per aiuto in tutti i loro bisogni ma l'uomo respinge questo amore e il mio amore va ramingo da che fu creato l'uomo e gira sempre senza mai fermarsi e respinto da uno corre ad un altro per darsi e come respinto da insinghiozzo di pianto sì che l'incorrispondenza fa il singhiozzo di pianto dell'amore onde mentre il mio amore va ramingo e corre per darsi se vede uno debole e povero debole nella vita dell'anima povero della mia grazia da insinghiozzo di pianto e gli dice ah se non mi facessi andare ramingo e mi avesse dato alloggio nel tuo cuore saresti stato forte e nulla ti mancherebbe se vede un altro caduto nella colpa da insinghiozzo ah se mi avessi dato entrata nel tuo cuore non saresti caduto per quell'altro che vede trascinato dalle passioni infangato di terra l'amore piange e singhiozzando gli ripete ah se avessi preso il mio amore le passioni non avrebbero vita in te la terra non ti toccherebbe il mio amore ti basterebbe per tutto sicché in ogni male dell'uomo piccolo oppure grande lui ha un singhiozzo di pianto e continua ad andar ramingo per darsi all'uomo e quando nell'orto del getesimani si presentarono tutti i peccati innanzi alla mia umanità ogni colpa aveva il singhiozzo del mio amore e tutte le pene della mia passione ogni colpa di flagello ogni spina ogni piaga era accompagnata dal singhiozzo del mio amore perché se l'uomo avesse amato nessun male poteva venire la mancanza d'amore ha germogliato tutti i mali ed anche le mie stesse pene io nel creare l'uomo feci come un re che volendo rendere felice il suo regno prende un tesoro di milioni e lo mette in giro affinché chi ne vuole ne prenda ma per quanto gira appena qualcuno prende qualche centesimo ora il re è ansioso di sapere se i popoli prendono il bene che loro vuole fare e domanda se il suo tesoro è finito per mettere fuori altri milioni e gli viene risposto maestà appena qualche centesimo hanno preso il re sente il dolore nel sentire che il suo popolo non riceve i suoi doni né li apprezza onde uscendo in mezzo ai suoi sudditi incomincia a vedere chi coperto di stracci chi infermo chi digiuno chi tremante di freddo chi senza tetto ed il re nel suo dolore dà insinghiozzo di pianto e dice ah se avessero preso i miei soldi non vedrei nessuno coperti di stracci che mi fanno disonore ma ben vestiti né infermi ma sani non vedrei nessuno digiuno e quasi morto per la fame ma sazi se avessero preso i miei soldi nessuno sarebbe senza tetto avrebbero potuto benissimo fabbricarsi una stanza per ricoverarsi insomma in ogni sventura che vede nel suo regno lui ha un dolore una lacrima e rimpiange i suoi milioni che l'ingratitudine del popolo respinge ma è tanta la bontà di questo re che adonta di tante ingratitudine non ritira questi milioni li fa continuare a girare sperando che altre generazioni possano prendere il bene che gli altri hanno respinto e così ricevere la gloria del bene che ha fatto al suo regno così faccio io il mio amore uscito non lo ritirerò continuerà ad andare ramingo il suo singhiozzo durerà ancora fino a tanto che trovi anime che prendano questo mio amore fino all'ultimo centesimo affinché cessi il mio pianto e possa ricevere la gloria della dote dell'amore che ho messo fuori a bene delle creature ma sai tu chiede Gesù a Luisa chi saranno le fortunate che faranno cessare all'amore il singhiozzo del pianto sono le anime che vivranno nel mio volere loro prenderanno tutto l'amore respinto dalle altre generazioni con la potenza della mia volontà creatrice lo moltiplicheranno quanto vogliono per quante creature me lo hanno respinto ed allora cesserà il mio inghiozzo ed in ricambio sottentrerà il singulto della gioia e l'amore appagato darà alle fortunate tutti i beni e la felicità che gli altri non hanno voluto dal discorso del santo padre giovanni paolo 2 del 21 marzo 2002 all'incontro per i giovani di roma punto dio ha creato l'uomo a sua immagine destinandolo a quella prima e fondamentale vocazione che è la comunione con lui in questo consiste la più alta dignità dell'essere umano fin dal suo nascere ricorda il concilio vaticano 2 l'uomo è invitato al dialogo con dio gaudium et spes 19 sì cari amici siamo creati da dio e per dio e il desiderio di lui è iscritto nel nostro cuore poiché la gloria di dio è l'uomo vivente come notava santi reneo di leone dio non cessa di attirare a sé l'uomo affinché in lui possa trovare la verità la bellezza e la felicità che cerca senza posa proprio perché creati ad immagine di dio abbiamo ricevuto da lui anche quel grande dono che è la libertà se non è esercitata bene però la libertà ci può condurre lontani da dio può farci perdere la dignità di cui egli ci ha rivestiti punto i nostri progenitori allontanandosi dalla volontà divina sono caduti nel peccato cioè nel cattivo uso della libertà il padre celeste non ci ha tuttavia abbandonati ha mandato il suo figlio Gesù per risanare la libertà ferita e restaurare in modo anche più bello quell'immagine che si era deturpata vittorioso sul peccato e sulla morte Gesù ci invita a non sottomettere la nostra libertà personale ad alcun potere terreno ma soltanto a lui e al padre suo omnipotente giovani del nuovo millennio non usate male la vostra libertà non sciupate la grande dignità di figli di dio che vi è stata donata sottomettetevi unicamente a Cristo che vuole il vostro bene e la vostra autentica gioia cfr mt 23 8 10 a lui che vi vuole uomini e donne pienamente felici e realizzati scoprirete in tal modo che soltanto aderendo alla volontà di dio possiamo essere luce del mondo e sale della terra queste realtà tanto sublimi quanto impegnative possono essere comprese e vissute solamente in un clima di costante preghiera e questo è il segreto per entrare e dimorare nella volontà di dio pro manuscrito a cura del gruppo di preghiera divino volere e divino amore ah no no non finiranno le generazioni se non ritorna l'uomo nel mio seno bello dominante come uscì dalle mie mani creatrici non sono contento d'averlo soltanto redento anche a costo d'aspettare avrò pazienza ancora ma deve ritornare a me come lo feci in virtù della mia volontà col fare la sua volontà scese nell'abisso e si trasformò in brutto col fare la mia volontà salirà ed acquisterà la nuova trasformazione nella natura da me creata ed allora potrò dire tutto ho compiuto l'ordine di tutta la creazione mi è ritornato e mi riposerò in esso Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarretta volume 14 11 novembre 1922 registrazione automatica a cura di www.divina volontà di 20 21 22 23 26 29 28 30